Buonasera a tutti. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nomino scrutatori per la seduta dei consiglieri Vito Palmisano, Valter De Bortoli e Giacomo Manfrin. Assenti risultano che meno comunicato l'assenza sono i consiglieri Emanuele Loperfido, la consigliera Isena Peresson e la consigliera Orsola Chiaradia. Arriveranno in ritardo il consigliere Tavella e il consigliere Manzon. Comunico al Consiglio che lo streaming questa sera non funziona per problemi non nostri. La seduta viene comunque registrata e pubblicata. Comunico al Consiglio le decisioni prese in Commissione Capigruppo per quanto riguarda l'ordine dei lavori. Come avrete saputo non c'è la consegna in sigillo, viene posticipata a data da destinarsi. Si inizierà con le due interrogazioni, dopodiché si passerà dall'esame delle delibere fino al loro esaurimento. Si esaminerà prima la delibera sulla riconfigurazione della GEA, dopodiché si esaminerà la delibera sul rinnovo dell'azienda autonoma sanitaria. Se si conclude prima le 22.30 affronteremo le emozioni, altrimenti chiuderemo i lavori dopo aver esaurito le deliberazioni. Bene, allora non c'è nessuno dei proponenti delle interrogazioni, pertanto non le affrontiamo. Chiedo al Signor Sindaco se ci sono comunicazioni. Passiamo alla deliberazione. Proposta numero 45 2015. Riconfigurazione della società GEA, gestioni ecologiche e ambientali S.P.A. quale gestore globale dei servizi ambientali attraverso il loro riassetto e razionalizzazione del modello gestionale dei servizi e loro qualificazione come servizi pubblici locali di rilevanza economica. La presenta il Consigliere... Consigliere del Benio... Adesso c'è il numero legale e questo io vedo, non posso fare previsioni. Consigliere Ibeiti, l'interrogazione l'abbia insegnata, ma lei non c'era. Perciò ho dovuto... Beh, avrebbe... Va bene, se mi avesse avvisato l'avrei aspettato, ma non è stato. Bene, prego, Signor Sindaco, se vuole illustrare. Prego. Sa che lei dovrebbe dire quando io indico l'ordine dei lavori, lì, è quello il momento. Comunque va bene. Chiedo scusa, è terminata in questo momento la mia... Allora, io chiedo un attimo, o meglio, formulo questa mozione d'ordine, perché dalla lettura della delibera mi ha colpito il punto 16, dove si dice di dare atto che l'amministrazione comunale provvederà nei tempi, aperta parentesi, entro 15 marzo 2016 e nei modi previsti, l'articolo 1, 611, a predisporre relazione che illustri i risultati conseguiti attraverso il piano di razionalizzazione e da racconto mediante pubblicazione sul sito. Allora, visto che questa delibera, al nostro modo di vedere, è una delibera abbastanza delicata per determinate motivazioni politiche che sono state, forse, ampiamente anticipate anche dagli ordini di stampa, però, a prescindere da questo, è una delibera che si pone in un momento particolare verso il termine del mandato di questa amministrazione. In largo anticipo, rispetto a quella che è la scadenza naturale, perché ricordo a tutti che la scadenza dovrebbe essere col 2017, si parla di operazione particolare. Allora, io ritengo che i dati che ci sono stati forniti, e abbiamo trovato nel materiale allegato alla delibera, non siano dati congruenti e comparabili. In considerazione di ciò, e in considerazione di quanto riportato nella delibera stessa, che quindi rimanda a una prossima scadenza molto vicina, non stiamo parlando di una scadenza lontana del tempo, ma parliamo della scadenza del 15 di marzo, io ritengo che sia opportuno aspettare i dati definitivi, come verranno pubblicati dall'amministrazione, quindi certificati in un certo qual senso, anche ai fini di assunzione di eventuali responsabilità. Quindi io ritengo che questa delibera, per queste motivazioni che ho accennato, e per quelle che, se volete, posso anche dilungarmi a spiegare ulteriormente, debba essere rimandata, Presidente. Ma le spiego anche fuori, un dato solo che ritengo sia fondamentale da illustrare, per far capire come i dati che ci vengono sottoposti adesso dall'amministrazione, sono dati che, in un certo qual senso, lasciano il tempo che trovano. Perché se noi prendiamo la relazione illustrativa, che era negli atti che ci sono stati trasmessi, dalla lettura, dalla lettura delle performance della partecipata, dalla lettura di quello che è il costo medio del servizio offerto, sembrerebbe che stiamo parlando di una fuoriserie che si pone addirittura tra le più economiche. Ma peccato che sia la stessa relazione illustrativa venirci a dire che quei dati sono dati falsati, sono dati che non possono essere paragonati con quelli delle altre società. Spiego in che senso. Perché è la stessa relazione illustrativa che ci dice che sta paragonando mele e pere. in quanto, quando parla di GEA, ci porta il costo del servizio, che è solo il servizio di raccolta. Quando parla delle altre società, le uniche due altre società che hanno un costo più alto, è un costo che però riguarda anche l'attività di smaltimento. Lo dite voi a pagina 44 della relazione. Se non sapete quello che scrivete, non è un problema mio, ma è un problema che riguarda voi. E vado alla lettura, se volete. Quindi... Faccio capire una cosa. Lei dice che questa delibera non dovrebbe essere esaminata... Perché manca un documento? No. Io dico una cosa diversa. Visto che nella delibera, al punto 16 della delibera, l'amministrazione stessa dice, impegna, si impegna a portare a portare entro il 15 di marzo, entro il 15 marzo 2016, nei modi previsti, articolo 1, eccetera, i dati definitivi, e i dati che riguardano il piano della razionalizzazione delle partecipate, io ritengo che questa delibera possa essere affrontata con cognizione di causa da parte di questo Consiglio Comunale successivamente al 15 di marzo. Non capito. Anche perché, Presidente, e vado a concludere, non stiamo parlando di un'attività dilatoria da parte di questa opposizione, perché parliamo del 15 marzo e fra un mese e mezzo. E siamo ampiamente nei termini per votarla, se rilaterrà questa amministrazione e volerla votare. Quindi io ritengo che sia un dovere, chiedo scusa, di questa amministrazione mettere tutti i consiglieri nelle condizioni di poter votare a ragion veduta e serenamente questa delibera. Poi, sulle argomentazioni politiche, se volete, posso anche continuare. Ma quello riguarda l'eventuale discussione. Perfetto. Quindi io formo... Ho capito, lei fa questa richiesta, dice che è opportuno esaminarla dopo il 15 marzo quando verrà presentata. E dopo domani il 15 marzo. E dopo di che mi dico pronto a ricominciare il Consiglio Comunale con l'ordine del giorno che vorrà stabilire la Commissione Capigruppo. No, non è una questione di... Perché l'articolo 42 del regolamento dice che le proposte di deliberazione di iniziativa del Sindaco o della Giunta e anche di iniziativa consigliere all'esame del Consiglio possono essere ritirate, sospese e rinviate prima del passaggio alla discussione per le prime necessarie apposite richieste del Sindaco per le seconde la richiesta unanima ai proponenti. Perciò l'amministrazione deve decidere se sospenderle. Se no io non posso... Non è da mettere i voti col Consiglio, non è previsto. Dovete rispondere. Sì, l'amministrazione deve rispondere. Grazie. Grazie, grazie Presidente. Io penso che sono piuttosto sorpreso da questa richiesta. Abbiamo fatto un passaggio in commissione credo agli inizi di novembre del 2015. Il materiale era stato ampiamente condiviso da tutti voi. Abbiamo messo nell'ordine del giorno la discussione di questa delibera più volte quindi era nella vostra attenzione e in più ci si riferisce ad una cosa molto precisa. È vero che noi dobbiamo presentare il risultato delle azioni del piano di razionalizzazione che abbiamo lanciato quest'anno presentandolo il 31 marzo 2015 ma l'interno di questa presentazione diciamo dell'avanzamento dei lavori chiamiamolo così della razionalizzazione gli atti che saranno indicati le azioni che verranno proposte al consiglio riguardano per esempio azioni come questa in cui già nella relazione del 31 marzo avevamo anticipato che saremmo andati a riconfigurare i servizi potete riverificare sulla relazione che è stata presentata e che ho commentato e condiviso con voi era chiaramente espresso esattamente la serie di passaggi che questa sera andiamo a esplicitare nella delibera quindi a mio modo di vedere questo fa parte di un programma di lavori datato da un anno meno qualche mese ma insomma che ha avuto una sua precisa evoluzione nel tempo proprio in base a quelli che sono stati poi le indicazioni del consiglio che ha approvato quel documento di razionalizzazione grazie signor sindaco perciò proseguiamo nei lavori chiedo che venga illustrata prego chiedo che venga illustrata la deliberazione preso atto che quindi non c'è la volontà dell'amministrazione di posticipare la discussione su questo no vabbè ma presupposto allora io chiedo che se si può mettere come mozione d'ordine il cambio dell'ordine dei lavori con lo slittamento di questa delibera cambio la formula per ottenere lo slittamento cioè slittamento in che senso chiedo la modifica dell'ordine dei lavori chiedo chiedo la modifica dell'ordine dei lavori tramite una mozione d'ordine ma mi deve dire come spostarli come modificare l'ordine di che modo chiedo il rinvio di questa delibera iscritta all'ordine dei lavori all'ordine del giorno odierno tramite l'amministrazione io ho formulato prima una richiesta io ho formulato una richiesta d'amministrazione e l'amministrazione in qualità di proponente come mi insegna la facoltà di accogliere o non accogliere l'amministrazione ha deciso di non accogliere prendo atto punto capitolo diverso formulo mozione d'ordine mozione d'ordine che posso farla se non ricordo male se non erro sull'ordine dei lavori giusto sull'ordine del giorno iscritto io chiedo che venga rinviata la discussione di questa delibera come mozione d'ordine quindi il consiglio si esprima no allora lei mi può scusate lei mi può mi può proporre una mozione sull'ordine dei lavori non sul contenuto degli oggetti all'ordine del giorno allora o lei mi chiede che venga discussa prima una deliberazione e poi l'altra e allora questo è legittimo ma se lei mi chiede con una mozione d'ordine di ritirare non è possibile questo è all'ordine del giorno ma per il consiglio per il consiglio come c'ha sempre insegnato lei il consiglio è sovrano se il consiglio decide come se il consiglio decide con un voto di mozione d'ordine di ritirare e di soprassedere come ci ha sempre detto lei il consiglio può far tutto ma dov'è il problema ve la votate vi prendete la responsabilità di votare non posso ritirare il consiglio non può il consiglio può far tutto il consiglio può far tutto il presidente ha sempre detto lei che la mozione d'ordine è sempre fatta non posso ritirarla cioè non posso far votare il consiglio sul ritiro di un documento che prima è un'amministrazione come non potrei fare se fosse un documento proveniente dai coseri allora chiedo la sospensione di 10 minuti per la convocazione da capigruppo presidente chiedo la sospensione di 10 minuti per la convocazione di una commissione capigruppo per valutare l'opportunità di modificare l'ordine dei lavori scusi lei mi chiede la convocazione da capigruppo io le chiedo la sospensione dei lavori per 10 minuti con i presidenti e i gruppi consigliari per valutare l'opportunità di inviare la discussione però lei mi deve dire qual è l'argomento perché non riesco a capirlo se l'argomento della commissione capigruppo è quello di ritiro alla mozione della deliberazione non è possibile il regolamento non ce lo consente facciamo una riunione inutile scusi l'ho letto l'articolo non è che il regolamento l'ho fatto io le proposte di deliberazione iniziativa del sindaco possono essere ritirate ritirate sospese e rinviate prima del passaggio alla discussione e noi non ci siamo per le prime necessarie apposite richieste del sindaco secondo me che la capigruppo non possa deliberare che la capigruppo non possa deliberare di sospendere io l'ho chiesta la capigruppo io l'ho chiesta se lo dice dal massimo mi adeguo dal massimo io chiedo la convocazione 10 minuti credo che 10 minuti in capigruppo con l'amministrazione si possano dedicare essendo dedicato l'argomento ritengo come ha detto lei è scritto la mia volta da novembre se lei mi chiede la convocazione al capigruppo devo concedere allora sono 18.54 alle 10 minuti 10 minuti dovrò vorreste poi vediamo se vabbè convochiamo la capigruppo in sala consiglieri grazie 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 riprendiamo i lavori chiedo al segretario se c'è il numero legale mi sembra di sì sì bene allora l'hp gruppo ha deliberato di affrontare le due interrogazioni adesso sono i proponenti dopodiché le due deliberazioni vengono esaminate invertendo l'ordine interrogazione le due interrogazioni le esaminiamo ci sono i proponenti Allora, interrogazione presentata dal Consigliere Ribetti. Interrogazione sull'affermazione del Sindaco su esistenza di luogo di culto islamico su territorio comunale. Il sottoscritto Francesco Ribetti, Consigliere del Comune di Pordenone, facente parte del gruppo consigliere del Popolo della Libertà, Fratelli d'Italia, premesso che in data 9 gennaio 2015 lo scrivente, preso atto degli articoli di stampa che raccontavano come il Sindaco di Pordenone si fosse recato presso la moschea centro islamico sito in località Comina, presentandosi scalzo e, per onor di cronaca, un assessore della sua giunta provinciale sarebbe presidata con il capo coperto presentava apposite interrogazioni per conoscere alcuni aspetti della vicenda. Nel corso della propria risposta, durante il Consiglio Comunale del giorno 16 marzo 2015 il Sindaco testualmente affermava che si era levato alle scarpe poiché quando vado in un luogo di culto seguo le regole di quel luogo. Più di una volta invece l'amministrazione comunale ha riferito come sul territorio comunale di Pordenone non esistono a moschea o altro luogo di culto islamico. Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale del gruppo del PDL interroga il Sindaco e l'assessore competente per conoscere 1. Se risponde al vero quanto affermato dal Sindaco del Comune di Pordenone ovvero che il centro culturale islamico Sinti Comina sia in realtà un luogo di culto islamico, una moschea 2. Se tal immobile abbia ricevuto tutte le necessarie autorizzazioni dal punto di vista amministrativo e urbanistico per essere adibito al culto 3. Se la zonizzazione nella quale ricade l'immobile sia quella per i luoghi di culto con richiesta di ricevere prima della discussione in Consiglio tutta la documentazione comprovante la regolarità urbanistica del luogo per essere adibito al culto. Firmato Francesco Ribetti, Presidente del Gruppo Consigliere del Popolo della Libertà Fratelli d'Italia. La parola al Sindaco. Prego, signor Sindaco. Grazie Presidente. Devo ammettere che il Consigliere Ribetti ha un raro tempismo, visto quello che è successo nelle scorse settimane. Mi spiace che l'architetto Ius sia andato via, gli avevo chiesto di fermarsi per eventuali ulteriori chiarimenti. Comunque il materiale l'è stato consegnato già allo scorso Consiglio Comunale. Leggo la stringata relazione che mi ha fornito, questo per gli aspetti tecnici. Il centro culturale islamico di Pordenone è insediato nell'attuale sede di via della Comina fin dalla primavera del 2010. L'edificio in precedenza adibito a Palazzina Uffici di un insediamento industriale è stato oggetto di cambio di destinazione d'uso da industriali a servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico con opere, avvenuto in forza dell'autorizzazione di edilizia in precario e successiva variante numero bababà. Il ricorso all'autorizzazione in precario è stato necessario in quanto all'epoca il PRGC non ammetteva l'insediamento di associazioni o centri o circoli culturali nelle zone a carattere produttivo di tre, come quella interessata dall'insediamento, mentre sussistevano le esigenze di carattere improrogabile e transitorio previste dalla legge regionale per il rilascio dell'atto abilitativo in precario in capo all'associazione denominata centro culturale islamico di Pordenone all'epoca affittuaria dell'immobile. Tale opportunità è stata colta dall'amministrazione in quanto il centro, prima del suo trasferimento in via della Comina, aveva sede in uno scantinato di via Monte Pelmo in una situazione di estrema problemicità con i residenti della zona, situazione più volte segnalata dai residenti. La situazione indotta dalle criticità emerse in via Monte Pelmo portarono tra l'altro all'amministrazione a redigere la variante urbanistica numero 94 in vigore dal 27 febbraio 2008, con la scuola si vietava l'insediamento di centri culturali o associazioni con finalità correlate al culto e alla professione religiosa nelle zone A e B. Tale nuova condizione urbanistica, unitamente ad altre difformità individuate nei locali a loro occupati, giustificarono l'ordinanza di sgompero del centro islamico allora emanata. La variante alla PRGC numero 77 è invece previsto la libera localizzazione anche nella zona D3 sia delle sopra richiamate attrezzature per la vita associativa, sia delle attrezzature per il culto e ciò per dare risposta alle innumerevoli richieste di insediamento delle varie confessioni religiose, per lo più di matrice cristiana, facente parte delle comunità di immigrati. All'epoca 26 comunità religiose diverse. È stato quindi possibile autorizzare in modo definitivo l'insediamento del centro culturale l'islamico nel frattempo integrato nell'attuale sede senza nessuna manifestazione di incompatibilità con il contesto attraverso un provvedimento in sanatoria, sanatore di opere di rilevanza edilizia numero 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 19 del 2009, in cui la conformità iniziale dell'intervento derivava dal titolo in precario sottempo rilasciato, mentre la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda di sanatoria era intervenuta con la variante del PRGC numero 77 in figure dal 16 marzo 2011. Questo per gli aspetti tecnici e quindi la documentazione che è in suo possesso diciamo è a supporto di questa brevissima... L'ultima parte che ho letto intende? Quindi è stato possibile autorizzare in modo definitivo, questa parte qui allude, l'insegnamento del centro culturale islamico nel frattempo integrato nell'attuale sede senza nessuna manifestazione di incompatibilità con il costesso, attraverso un provvedimento in sanatoria rilasciato ai sensi, in cui la conformità iniziale dell'intervento derivava dal titolo precario, mentre la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda di sanatoria è intervenuta con la variante del 16-3 2011. Non c'è una data, devo essere, non trovo una data specifica di questo, per forza, visto che si riferisce. Questo per gli aspetti tecnici. Per quanto riguarda la sua prima domanda, le ricordo che come avevo detto proprio in relazione a quanto era accaduto, quando avevamo cercato di discutere e di rispondere comunque a questa interrogazione era esattamente un anno prima, avevo detto che era stata mia personale decisione il fatto di entrare in un luogo in cui si pregava rispettando modalità, riti e sensibilità di chi in quel momento stava pregando. Finito. Volevo aggiungere che, per sua informazione, e quindi ribadisco quello che ho detto in quel momento, era un gruppo di persone che pregava all'interno di una struttura come il Centro Cultural Islamico, dove penso si possa pregare, come in altri, vista la libertà che garantiamo di culto, e quindi mi sono sentito di, come si dice, adeguarmi alla sensibilità delle persone che in quel momento stavano pregando. Volevo informarla che i calzini che lei mi ha regalato, in occasione della discussione che mi ha offerto, posso dire così, va bene, no, quello sbaglia, perché alla fine li ho ancora, li ho nella mia bacheca dei ricordi più cari dei miei anni di sindaco, però devo sottolineare che si sono infiltriti leggermente, quindi se eventualmente pensasse a qualche cosa del genere, volevo solo segnalarlo, grazie. Grazie signor Sindaco. Prego, consigliere Ribetti, può dichiarare se si ritiene. Grazie, grazie Presidente. Beh, Sindaco, evidentemente si sono adeguati all'amministrazione che è andata a fare quella performance, ma sarà mia premura la prossima volta che lei andrà al Centro Cultural e rappresenterà tutti i pordenoni di scalzo, regalarglielo un altro paio. Ma l'ho presa a calza edonia, l'ho presa da calza edonia, se non possiamo più fidare... Vabbè, comunque, Sindaco, io prendo atto della risposta... Va bene, andrò da Gaspardo. Prendo atto della risposta che ha voluto dipanare un dubbio, perché spesso questa amministrazione era uscita dicendo che a Pordenone non c'erano moschee. Io prendo atto che a Pordenone non è una moschee, esiste. Quindi quello che ci è stato sempre venduto come un centro culturale, noi sappiamo in questo momento essere, con la conoscenza e la coscienza dell'amministrazione, essere una moschee. Ecco, quindi dal punto di vista della soddisfazione, la mia interrogazione, sono soddisfatto per la risposta data all'amministrazione, che ha confermato quello che era un dubbio, che non solo io, ma che tutti i pordenonesi avevano. Quindi l'esistenza della moschea a Pordenone, sono assolutamente insoddisfatto dal punto di vista politico di quanto questa amministrazione faccia, sotto questo punto di vista. Ma perché l'abbiamo già, Sindaco, l'avevo già evidenziato nel corso della mia interrogazione principale. Non è che qui nessuno vuole impedire la libertà di culto, ma ci mancherebbe altro, ognuno è libero di professare il proprio culto, a parte che ci sono anche dei vincoli legislativi che tutti vogliamo rispettare. Però quello che deve essere chiaro, io credo che sia il pensiero dell'amministrazione, e deve essere soprattutto chiaro e trasparente, e deve essere un pensiero che deve essere prima di tutto rispettoso dei propri concittadini. Vede, Sindaco, lei è libero, giustamente io prendo atto, lei va in quello che definisce un luogo di culto, per rispetto delle altre... La prossima volta farò un'interrogazione alla consigliera Bevilacqua, così potrà esprimersi. Ma l'unica volta che mi ha risposto all'interrogazione, quando era assessore, ha detto, leggo le parole che mi scrivono gli uffizi. Non mi sembra che abbia il ruolo di Presidente del Consiglio, Bevilacqua. Consigliera, silenzio per cortesia. E lei allora non mi disturbi, perché se deve diventare un monologo. Grazie, Presidente. Vede, mi ha fatto anche perdere il filo, forse è questo l'interesse. Vede, Sindaco, lei può andare durante una preghiera, non durante una preghiera, però deve essere chiaro che i suoi concittadini non può dire a Pordenone non ci sono moschee, e poi lo va. Lei, adesso l'ha detto, sollecitato, lei adesso... ...dove a volte pregano. A volte pregano, ma se a volte pregano, allora... ...se a volte pregano, allora... ...se a volte pregano, allora... ...sindaco, Sindaco, se ci vogliamo nascondere dietro un dito, ci nascondiamo dietro un dito. Per carità, senta, ci sono andato anch'io, ci sono andato anch'io al centro islamico. Ci sono andato anch'io, guardi il caso, io le scarpe le ho ottenute. Io le scarpe le ho ottenute e mi hanno dato degli appositi copri calzari, che poteva benissimo mettere anche lei, perché lei, è giusto, ripeto, che deve garantire la libertà di culto come istituzione, e questo posso essere d'accordo, ma io credo che lei debba portare, prima di tutto, rispetto ai suoi concittadini. Io non credo che lei ha portato rispetto ai suoi concittadini in quell'occasione mettendosi a piedi scalzi. Questo è il mio pensiero, che è diverso dal suo, però credo che questa sia un'aula dove ognuno può esprimere il proprio pensiero liberamente, quindi lo ribadisco. Bene, grazie consigliere. Passiamo all'interrogazione presentata dal consigliere Franco Dalmasse. Oggetto sul futuro di Interporto, centro ingolosso di Pordenone e S.P.A. sottoscritto consigliere comunale, premesso che l'amministrazione comunale con il piano di razionalizzazione delle partecipate, legge 190 2014, ha deciso di confermare la partecipazione in Interporto, centro ingolosso di Pordenone e S.P.A., società partecipata dal Comune e controllata, ex articolo 2359 Cose Civile, dalla Camera di Commercio di Pordenone. L'ente camerale avrebbe deciso di dismettere la partecipazione nella società complice d'incertezza sul riordino degli enti, unificato ad Udine o assorbito nell'unico ente regionale. Pertanto si avverte con preoccupazione la possibile perdita di ruolo della governance locale della società in oggetto. Un tanto premesso è ritenuto il sottoscritto consigliere interroga il signor sindaco di Pordenone per sapere quali conseguenti determinazioni intende assumere l'amministrazione comunale, firmato Franco Dalmasse. Prego, signor sindaco. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere. Dalmasse, così cerchiamo di fare un po' ordine anche sulle notizie che sono comparse su questo fronte. Volevo solo rapidissimamente ricordare che, sempre facendo riferimento alla presentazione del piano della razionalizzazione delle partecipate, in quella sede avevamo condiviso che la nostra partecipazione rimaneva nell'interporto fin quando questa benedetta convenzione relativa alla, chiamiamola l'urbanizzazione, adesso forse non uso il termine preciso, ma insomma al completamento delle opere attraverso la convenzione che noi abbiamo fosse stata completata. Quindi, visto che siamo quasi in fondo, la vera preoccupazione che avevamo condiviso era anche il dopo. Cioè, una volta terminato le opere, una volta realizzato anche quello che è uno snodo ferroviario che comincia a essere particolarmente attraente, visto i 700 metri che... se fanno i 700 metri garantirà finalmente l'arrivo di treni così come dal punto di vista delle normative sono richieste, normative di vantaggio ovviamente, è chiaro che diventa un qualche cosa di attrattivo per gli operatori logistici. Quindi, la Camera di Commercio, che ha, vi ricordo, il 78,974% delle azioni, quindi è l'azionista di gran lunga maggioritario, visto anche dal loro punto di vista, della Camera del Commercio, le azioni da intraprendere per quanto riguarda il trattamento delle partecipate, si è posta il tema, se non fosse il caso, di, in questo contesto, cercare una misura che potesse anticipare il fatto che il centro ingrosso da, diciamo, una situazione di gestione immobiliare non è vero, ma insomma ci siamo capiti, passasse ad essere una struttura che effettivamente potesse diventare e insediarsi nella parte dei servizi logistici. E quindi trovando partners, anche privati, o privati soprattutto, che avessero intenzione di investire in questo senso. Ecco, l'iniziale notizia che era emersa, che è stata anche discussa nel Consiglio di Amministrazione dell'Interporto, di porla in liquidazione, con le modalità, adesso, tecniche, che se vuole poi possiamo condividere più in dettaglio, è stata scartata per il momento, ma ciò non toglie che questa azione di ridefinizione e di creazione di una vera e propria società che quindi migri, termini la missione dell'Interporto così centro ingrosso, così come lo conosciamo oggi e lo trasformi in un vero operatore logistico, è qualcosa che rientra ancora nelle finalità della Camera di Commercio e che, devo dire, condividiamo. Perché sappiamo bene che, penso che anche lei fosse ad un incontro particolarmente interessante che si è svolto in un'industria dove il porto di Trieste si è presentato, cioè è venuto a Pordenone per presentarsi come entità con il chiaro messaggio che l'Interporto come area a servizio del porto di Trieste e snodo verso una parte importante del nord Italia è un qualche cosa che è assolutamente a nostra portata di mano, bisogna concretizzarlo con un intervento molto preciso da un punto di vista di investimenti e di apporto di conoscenza e di know-how. Ecco, quindi nei prossimi mesi questa attività di esatta definizione e di trasformazione dell'Interporto continuerà. Continuerà solamente che la formula e le modalità con cui verrà proposta questa chiamiamolo trasformazione della società, terrà conto in modo più realistico, da un lato, se ci sono o no vincoli di tipo regionale nella trasformazione della società, ricordo che ci sono in ballo 15 milioni di apporto della regione proprio per l'Interporto e far sì che l'Interporto possa terminare la sua configurazione, dall'altro salvaguardia dei posti di lavoro secondo le leggi regionali. Quindi l'insieme di queste due cose, volendo proprio fare sintesi delle sintesi, è l'attività è stata rallentata, questa definizione delle esatte modalità sarà reso noto nei prossimi mesi, ma l'intenzione è certo di valorizzare il più possibile un bene come questo che è intuibile visto i risultati, l'unico porto che ha avuto un incremento significativo tra i porti italiani è stato quello di Trieste, almeno vedendo i dati che erano stati pubblicati qualche giorno fa, ci fa capire che questa è una grande opportunità per la città. Sicuramente lei aggiungerà nella sua replica di insoddisfazione gli aspetti logistici che sono intorno all'Interporto. Intuisco già dagli occhi, posso condividere, nel senso che mentre sulla parte della ferrovia e la vicinanza all'autostrada da l'Inter con la bretella darà all'Interporto sicuramente un vantaggio proprio, come dire, di posizionamento. I temi su come andremo a essere meglio collegati verso il nord, diciamo, della provincia restano uno dei nodi che io spero nel tempo altri illuminati politici vorranno risolvere. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Prego, consigliere Dalmasse. Posso? Eh sì, ringrazio il Sindaco per la risposta. Anche dettagliata rispetto a ciò che si può dire, ciò che non si può dire, trattandosi comunque di una società di capitali, quindi alcune strategie probabilmente appartengono per il momento ancora al management, management che straordinariamente è sempre locale qui da noi, cioè è drammaticamente locale, a parte quello della fiera. Allora, non so se sia così facile, probabilmente hanno capito che mettere in liquidazione non è così immediato anche perché quella società utilizza denari finalizzati, cospicui e importanti, così è stato nel tempo, perché questa città ha investito, la regione ha investito per anni sul centro interporto ed ha dei risultati, insomma, rilevanti. purtuttavia, chiaro che il completamento, l'agoniato completamento del raccordo ferroviario incontra oggi dei problemi strutturali, nel senso che non è conveniente, così si dice, semplifico la vulgata e questa, sotto i 500 km di distanza di percorrenza non si trasportano merci via rotaia. Quindi, insomma, siamo collocati in una particolare area, quindi può essere Trieste, può essere Venezia, insomma, le realtà sono di un certo tipo, quindi benvenga a questo rinnovato, come dire, interesse nei confronti del porto regionale che è l'unico che abbiamo. Ecco perché, allora, se giungeva notizia che la Camera di Commercio aveva messo in liquidazione, credo dicembre dello scorso anno, la sua partecipazione, o dismesso la partecipazione, si pensava, visto che detiene l'85%, e quindi la controlla, di uscire, e quindi di vendere i beni, sostanzialmente, Interporto oggi ha dei beni. E se io leggo il bilancio, come viene fatto, sono ovviamente i canoni di locazione, no? Andiamo a vedere cosa viene citato qui. I canoni di locazione sono una parte importante, l'energia, il fotovoltaico che mettiamo sui capannoni, in attesa che, perché i dati, sindaco, sono questi, cioè lei sa benissimo che i dati sono questi. E per di più si era, come dire, avvitata questa questione della partecipazione alla Camera di Commercio, anche in relazione, io lo dico, lo enuncio semplicemente in premessa, lei ha sorvolato questo aspetto, perché attiene a ciò che non è confessabile, in relazione al fatto che c'è una riforma in atto delle Camere di Commercio. Chissà mai che un domani mattina siamo, la Camera di Commercio di Prodorone viene unificata quella di Udine, o c'è addirittura l'unica Camera di Commercio regionale, è chiaro che si porrà il problema del peso nostro rispetto a queste società e di conseguenza, diciamo, ciò che portano in dotazione. Quindi può essere sicuramente interessante il fatto che ci sia un operatore che opera nel campo della logistica che è interessato più o meno anche all'interporto di Prodorone. Quindi ragioniamo su questo. Mi sembra, insomma, che il ragionamento sia stato fatto, salvo poi scoprire che non è così facile. Perché dobbiamo completare una serie di opere anche per conto della regione, mi pare che sia affidataria all'interporto, no? Il collegamento A28-Pontebana ancora deve finire, non so a che punto siamo lì. Si pensava, sempre i soliti ignoti, i soliti ignoti dicevano che la Cimpellos e Quazemona era un collegamento viario necessario anche per dar l'infa all'interporto. Poi voi avete deciso, anzi qualcun altro, non lei il sindaco, ha deciso che non lo è più e vabbè abbiamo chiuso anche quella partita. A me non interessa discettare sulla struttura dell'interporto, sui compensi, queste sono questioni irrilevanti dal mio punto di vista, perché sono modesti di per sé, non è questo il punto. Il punto è che ancora una volta si dimostra, e io credo, spero di essere smentito, che fiorfiore di investimenti che sono stati fatti su questo territorio hanno prestato e prestano tuttora il fianco perché devono essere, come dire, tarati sulla realtà nostra, sulla realtà di Pordenone. Quindi ho l'impressione che abbiamo costruito nel tempo un po' di cattedrali, perché vede, se non avessimo portato lì, eravamo tutti d'accordo sull'interporto, grande scelta, però a un certo punto abbiamo perso questo slancio, e a un certo punto abbiamo scoperto che il mondo andava da un'altra parte. Ecco, non è che c'è un difetto di programmazione anche da parte nostra? Ho terminato, grazie. Grazie. Bene, abbiamo esaurito le due interrogazioni. Adesso, come vi ho detto in Commissione, Presidente dei gruppi, abbiamo deciso di modificare l'ordine dei lavori. Pertanto adesso esamineremo la proposta numero 1 2016, rinnovo all'azienda per l'assistenza sanitaria numero 5, Friuli Occidentale, della delega per la gestione per conto del Comune di Pordenone dei servizi rivolti alla handicap e dalla disabilità, anno 2016. Do la parola all'assessore Romor per l'illustrazione. Prego, ossessore. Grazie. Dovrete ascoltarmi nel frattempo che arriva la tecnica, perché eravamo rimasti d'accordo che prima veniva fatta la GEA come era stato stabilito in conferenza dei sindaci, ma subito il cambiamento l'ho chiamata. Adesso arriverà subito Gemma Romano per vedere se c'è qualche domanda in particolare. La delibera è già passata in commissione. Allora, di che si tratta? Si tratta dell'atto, dell'esame, della proposta per il rinnovo per l'anno 2016, all'azienda per l'assistenza sanitaria numero 5, Friuli Occidentale, dell'atto di delega per la gestione dei servizi socioassistenziali a favore della popolazione disabile e modalità di coordinamento con i servizi sanitari e sociosanitari. La delega è scaduta il 31 dicembre del 2015 e il 21 ottobre 2015 il presidente della conferenza dei sindaci, il presidente Pedrotti, aveva espresso parere favorevole al rinnovo della delega per il 2016 per un anno. Perché per un anno? Perché c'è il cambio del responsabile dell'azienda sanitaria 5, il dottor Grizzo, che ha receduto l'incarico e deve entrare il sostituto. Poi c'è anche un altro problema che è un problema elettorale per il comune di Pordenone e da altri comuni della provincia di Pordenone e quindi si ha il tempo di poter studiare eventualmente una delega per i prossimi tre anni, quindi 17, 18 e 19. Quindi la conferenza dei sindaci ha votato favorevolmente il fatto di delegare per un anno soltanto all'azienda sanitaria quello che stava già facendo. Voi sapete che c'è un servizio, un atto di delega tra il comune e l'azienda sanitaria, meglio fra tutti i comuni della provincia di Pordenone, e poi c'è un atto di accordo di attuazione che entra in merito sulla parte esecutiva della delega e di norma viene fatto tra il coordinatore socio sanitario dell'azienda sanitaria e il dirigente del settore del comune. Tre anni fa abbiamo firmato una delega completamente rifatta rispetto al passato che scadeva il 15 dicembre. C'è stato un avvicendamento all'interno della S5 del coordinatore socio sanitario proprio alla fine di quest'anno e con il nuovo coordinatore probabilmente il nuovo coordinatore vorrà rivedere e anche ridiscutere alcune cose per cui si è ritenuto in accordo con la conferenza dei sindaci e con l'azienda sanitaria stessa di fare un rinnovo per un solo anno e dare il tempo di fare il punto della situazione e di proporre eventuali modifiche specifiche dunque che per questo motivo è stato fatto un atto valido per un solo anno a differenza dei tre usuali. Nel testo proposto dall'azienda sanitaria vi erano dei refusi e d'accordo con il segretario generale si è provveduti alla correzione di questi errori materiali che verranno rivisti anche dall'azienda sanitaria che ce li ha già praticamente accolti e corretti. Il primo atto è la vera e propria delega dove viene spiegato l'oggetto, quali sono gli organi, quali sono gli obblighi del Comune e dell'azienda sanitaria, entro quanto deve essere approvato il bilancio come vengono regolati i rapporti, 30% tendenzialmente nell'arco dell'anno e poi al consultivo il saldo. Questo è l'atto che viene firmato da tutti i Comuni con la S5, mentre l'accordo, come si diceva prima, di attuazione è quello che spiega nei dettagli le varie modalità per il pagamento, l'eventuale compartecipazione alle spese, i vari servizi eventualmente erogati, le strutture che gestisce l'azienda sanitaria per conto dei Comuni e i bilanci. Si specifica inoltre che anche nell'accordo ci sono state delle modifiche conseguenze dei refusi dell'anno scorso e che sostanzialmente non è cambiato niente, a parte l'elenco di alcune strutture attualmente attive, quindi in più. Questo è il quanto. Noi dobbiamo deliberare l'atto di delega per il 2016. Avrei concluso. Se ci sono domande e se riesco a rispondere vi rispondo io, se no ho bisogno di aspettare il tecnico eventualmente, se volete entrare nello specifico dei contenuti. Grazie, Assessore. Bene, allora chiedo, ovviamente passiamo alla parte delle richieste di chiarimenti, credo che sia la prima richiesta del Consiglio del Ben. Prego, Consiglio del Ben. Volevo aggiungere, Assessore, a quello che ha detto lei. Il 22 dicembre la Giunta regionale ha adottato un atto che praticamente rende cogente, obbligatoria, la proroga di un anno di tutte le convenzioni in atto fra Comuni e azienda sanitaria, perché, e questo è esplicitato, la proroga di un anno, perché l'anno 2016 sarà l'anno in cui sarà approvato il nuovo piano triennale sociosanitario, ragionevolmente entreranno in attività le UTI, quindi la Regione stabilirà indirizzi specifici per queste attività delegate, dando anche qualcosa di più come competenza propria all'azienda sanitaria. Quindi se lei è d'accordo e se i colleghi sono d'accordo, noi potremo prendere atto di questo dettato della delibera del 22-12, ovviamente venuta dopo che l'atto è passato in commissione, ma in pratica essendo una mera prosecuzione indicata dalla delibera regionale, ne potremo prendere atto e quindi su questo non entrare anche nella discussione, dando per scontato, e qui sono d'accordo con lei, che la prossima campagna elettorale potrebbe anche essere un insieme di proposte affinché nel nuovo atto che sarà adottato nel 2017 si possono avere quelle introduzioni, quei cambiamenti che al momento vigente questa ultima delibera non potremmo di fatto introdurre in questo atto che è l'approvazione. Grazie, io ho saputo di questo atto regionale del 22 dicembre ma non lo conosco e allora chiedo al segretario se è da qualche parte per poter capire se si può recepire la sua volontà, oppure se si deve, presidente e segretario, mettere ai voti la delibera perché abbia valore rispetto agli altri probabilmente comuni che dovranno votare nella stessa maniera. Era questo, non entrare in differenze con gli altri comuni. Sì, ma il consigliere del Ben ha detto che il 22 dicembre, giorni dopo che avevamo già fatto tutto il programma, è entrata questa delibera, quindi diventa obbligatoria da parte della regione, non è più una volontà nostra, è una delibera d'obbligo da parte del sindaco. E quindi segretario cosa facciamo? Dal punto di vista amministrativo chiedo. Sì, no ma direi che l'informazione aggiuntiva che ha dato il consigliere del Ben rafforza, comunque, diciamo, al di là della facoltà, prima che poteva avere il consiglio comunale, ma l'intenzione mi pare era quella di affidare comunque, perché il servizio sta comunque andando avanti, cioè l'azienda sta garantendo comunque il servizio, e quindi c'è una proroga di fatto, quindi la votazione comunque è necessaria. Semmai è rafforzata dal fatto che anche la regione ha detto non fate cose per triennali perché revisioniamo il piano. Ecco, questo è un motivo in più per considerare questo atto un atto sostanzialmente dovuto. Io passo la parola al Presidente per la gestione delle votazioni. Discussione e votazioni. Se ci sono altre richieste di chiarimenti, altre richieste di chiarimenti, il consigliere De Bortoli, prego. Fuori dubbio che questo si tratta di un servizio importantissimo, però riflettevo un attimo, nel senso che la regione il 22 dicembre dice appunto nella moratoria delle UTI di quant'altro sta succedendo e sul piano sanitario regionale che va rivisto nel 2017, dice prologhiamo tutto com'è? Mi pare che dica questo, no? Allora, non dando nessun tempo, dice prologhiamo poi ci riprendiamo nel 2017. Questo probabilmente lo fa anche in carattere generale, non tanto per i comuni di Pordenone, ma i comuni in cui questo servizio viene erogato, giusto? Allora, perché noi dobbiamo votarlo e magari altri comuni non lo fanno e ci dobbiamo distinguere in negativo e in positivo, magari non modificando più? Io direi se c'è una normativa che prologa fino al piano sanitario regionale del 2017, questo comune prende atto, la delibera, ha una prosecuzione per imperio della regione Friuli e San Giulio e per cui non serve neanche votarlo. Io penso che sia così. Comunque ditemi voi cosa fare. Il segretario ha detto che bisogna comunque votarlo, però il segretario ha appena detto che bisogna comunque votarla, che rafforza il... ci vuole un'autorizzazione di andare a firmare. Altre, scusate, altre richieste di chiarimenti? No. Nessuno. Se noi questa sera, per caso, bocciassimo questa delibera, cosa dovrebbe succedere? Mettiamo a caso, visto che si vota e il voto può anche essere negativo, va avanti con la delibera della regione, dunque questa votazione non ha senso. Se noi bocciamo questa delibera, scusi di segretario, non c'è la prologa della regione del 22 dicembre? Date la prologa della regione. Scusi, non so, perché volevo capire un attimo. Allora, la regione non è... Sì, allora, la regione è intervenuta a dire quello che vuole fare, ma per noi la delega è una spesa, quindi se non lo affidiamo all'azienda sanitaria, dobbiamo affidarlo a qualcun altro. E quindi, se io non sono autorizzato dal Consiglio Comunale, non posso pagare l'azienda sanitaria per le prestazioni che fa. Cioè, noi paghiamo comunque, riceviamo delle contribuzioni dalla regione, ma nel stesso tempo, perché ci sono modalità diverse, o con delega all'azienda, o con delega a consorzi, c'erano modalità. Devo dire, secondo me ha revisionato il piano, quindi adesso stavo cercando anch'io la delibera per andare nel dettaglio, ma ha solo detto, ha dato una linea per revisionare... Esatto, è questo che ha detto, cioè non è che ha detto voi dovete prorogare, cioè questo rafforza la linea che è un atto poco più che dovuto. Va bene. Grazie. Non vedo nessun'altra richiesta di chiarimenti? Dichiaro chiusi i chiarimenti e dichiaro aperta la discussione. Prego, signori consiglieri, siete invitati a iscrivervi a parlare se volete intervenire. Nessuno iscritto? Dichiaro chiuso il primo intervento. Passiamo al secondo intervento. Nessuno iscritto? Dichiaro chiuso anche il secondo intervento. Immagino che l'amministrazione non debba fare altre presentazioni. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Nessuno iscritto? Dichiaro chiuso le dichiarazioni di voto. e comunico di dare avvio alle procedure di votazione. Pongo, signori per cortesia, un attimo di attenzione. Pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto. Proposta numero 1 del 2016. Rinnovo all'azienda per l'assistenza sanitaria numero 5, Friuli Occidentale, della delega per la gestione per conto del Comune di Pordenone dei servizi rivolti alla handicap e dalla disabilità. Anno 2016. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuso le operazioni di voto. Legge della votazione seguente. Presenti 37, votanti 36, maggioranza 19, favorevoli 29, contrari nessuno, astenuti 7. La deliberazione è stata approvata. Pongo ai voti la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Un attimo di pazienza. Votate per cortesia. Dichiaro chiuso le operazioni di voto. Legge della votazione seguente. Presenti 37, votanti 36, maggioranza 19, favorevoli 30, contrari nessuno, astenuti 6. La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Passiamo ora alla proposta numero 45 2015. Adesso verrà distribuito l'emendamento presentato dall'amministrazione. Allora, proposta numero 45 2015, riconfigurazione della società GEA, gestione ecologica e ambientale SPA, quale gestore globale dei servizi ambientali, attraverso il loro riassetto e razionalizzazione del modello gestionale dei servizi e loro qualificazione come servizi pubblici locali di rilevanza economica. La parola al sindaco. Prego, signor sindaco. Grazie, grazie presidente. Per certi versi abbiamo in parte già iniziato la discussione di questa delibera e ritorno solo per modo estremamente sintetico a quelli che erano state le indicazioni che avevamo dato già lo scorso anno, in marzo, il 31 marzo, presentando le linee generali sulle nostre partecipate e nel caso specifico anche su GEA. Bene, vi ricordo che una delle cose che avevamo sottolineato è che è la nostra intenzione in questo processo, per quanto riguardava le nostre controllate strategiche, di rafforzarle, di far sì che queste fossero e diventassero società, lo sono, sono sane, ma noi vogliamo che da un punto di vista della loro presenza, della loro competitività, del modo di fare i servizi, del modo di essere capitalizzate, diventino società che in futuro, qualsiasi sia i confronti a cui saranno sottoposti, si presentino ai tavoli di confronto e di eventuali trattative strutturate nel modo giusto. Nel modo che alla fine faccia sì che Pordenone, anche in questo campo specifico, quello della gestione ambientale a tutto tondo, sia un modello di riferimento e anche in questo modo affermi in modo chiaro la sua centralità all'interno del nostro territorio. Avevamo anche anticipato che la riconfigurazione di questi servizi avrebbe toccato aspetti specifici, sia per quanto riguarda l'intero ciclo, diciamo, dei rifiuti, sia per quanto riguarda la gestione ambientale. Quindi il verde di per sé, cioè le pure operazioni di mantenimento del verde, venivano inquadrate, questa era la nostra volontà, il nostro desiderio, in un quadro complessivo molto più largo, in cui la gestione del verde dei nostri parchi, quindi, per esempio, all'interno della città, veniva affidato alla società che non si dovrà occupare semplicemente degli sfalci, per usare un termine che ci è familiare, ma anche della gestione del parco dal punto di vista dei servizi, dal punto di vista degli eventuali eventi, dal punto di vista delle chiusure. Insomma, un servizio completo che faccia sì che questi luoghi, che rappresentano anche dei punti di attività, potenzialmente di attività economiche, potessero essere gestiti a tutto tondo con un unico partner, un'unica società di riferimento e la scelta dell'in-house, l'abbiamo, come lo poi illustreremo, giudicata vincente, facendo delle comparazioni e dei confronti a tutto tondo per qualificare GEA nei suoi servizi e in quelle che sono le prospettive future di GEA. Allora, questa era la premessa, quindi siamo coerenti in questa programmazione dell'attività che, nel campo specifico, hanno già interessato GSM. Abbiamo avuto, per molti versi, una simile sessione del Consiglio Comunale per GSM, dove abbiamo riqualificato i servizi che abbiamo affidato. Adesso si tratta di fare esattamente la stessa cosa per GEA. Io vorrei chiedere, Presidente, di far intervenire il Segretario, che quindi ci illustra la parte degli atti di per sé, ma siccome l'atto, la delibera e quanto è allegato, poi deve essere accompagnata, nell'ambito complessivo di quello che stiamo facendo, da quello che è uno sviluppo della parte economica, quindi un business plan di GEA che sia in corrispondenza ai servizi che noi diamo e che faccia capire la solidità di questo progetto nel tempo, poi chiederemo a Luca Mariotto, l'amministratore unico, di velocemente percorrere, velocemente, in funzione delle richieste, di percorrere anche questa parte. Quindi... Va bene. Prego allora, Segretario. Per la parte che le compete. Sì, buonasera. Questa sera dovrete sopportare me, perché la dirigente dell'ambiente è impegnata fuori sede con il suo ruolo anche di responsabile delle politiche europee. E quindi vado io ad illustrare, oltre che gli aspetti delle modifiche statutarie, anche qualcosa della relazione sull'articolo 34. Poi invece per gli aspetti tecnici del piano investimenti, è qui presente il dottor Mariotto, che potrà rispondere anche sulle modalità con cui è stato effettuato il confronto, quindi il cosiddetto benchmarking, e anche rispetto ai rilievi sulla disomogenità, l'eventuale disomogenità. Allora, il provvedimento che andiamo ad adapparare questa sera prevede, quindi al di là del punto 1, l'approvazione delle premesse, ma è la qualificazione, quindi qualifichiamo la gestione dei servizi ambientali in chiave di gestione globale. Cioè qui, rispetto a quello che era già affidato, sostanzialmente, siamo andati a ridefinire, a ridefinire nella sua interezza il servizio. Quindi a qualificarlo come servizio pubblico locale, come servizio di interesse economico generale correlato al servizio pubblico locale, che ha dei profili di potenziale ereditività, fondati su un sistema di remunerazione, che sfrutta i diritti di gestione, quindi di esclusiva, che può essere equilibrato con compensazioni. Quando si dice compensazioni, si intendono eventuali quote che mette l'amministrazione. Nel nostro caso, lo vedrete nella relazione, sono i 200.000 euro messi negli ultimi due anni che hanno consentito, dedicati ad abbattere alcune tipologie di utente che avevano avuto, di tipo commerciale, che avevano avuto degli sbalzi notevoli in seguito all'attuazione della tariffa. Poi, ovviamente anche questo, del quadro di mercato, quindi riferito al contesto territoriale di riferimento, e quindi qui abbiamo, lo vedrete dal confronti, anche con riguardo a alcune tipologie riconducibili al verde pubblico. Anche questo è stato riconfigurato, quindi nella sua interezza, quindi prima era un'attività prevalentemente strumentale, adesso diventa una gestione complessiva. E dalla connotazione normativa, dalla rilevanza economica. Quindi in questo contesto, quindi abbiamo provveduto a, scusate, a provare, quindi a riconfigurare GEA, andiamo a proporre la provazione dello schema di statuto, come predisposto, nel tema modificato, e poi vediamo, per sommi capi, insomma, le varie modifiche. Poi andiamo a provare l'allegato 2, che è il, a riapprovare l'allegato 2, che è la bozza, la nuova bozza della Convenzione per il controllo analogo. Poi, ovviamente, la relazione, cosiddetta ex articolo 34, che è questa relazione, che dà conto per ogni servizio pubblico, che sia affidato in appalto, che sia affidato in in-house, quindi a una società totalmente a controllo pubblico, del rispetto delle normative, della convenienza, o quantomeno, dell'allineamento ai valori, ai prezzi di mercato, quindi della sua efficienza, non è che deve dimostrare che è il massimo dell'efficienza, ma deve stare in questo campo, e quindi di optare per l'affidamento dei servizi in esclusivo, un unico gestore, di individuare come modello più idoneo l'affidamento in-house providing, di individuare il soggetto affidatario, quindi confermarlo in GEA, quindi verificandone tutti i requisiti giuridici per rispondere alle normative europee e alle normative nazionali, di determinare il periodo di affidamento, quindi aggiornare il periodo di affidamento, attualmente in scadenza 2017, in linea con gli investimenti previsti, in maniera che gli ammortamenti siano coerenti con la durata del servizio, e poi approvare le linee guida del nuovo contratto che doveva essere stipulato, che aggiornerà i contratti precedenti, e poi il punto 13, dare atto che al fine di non pregiudicare la necessaria continuità dei servizi pubblici inerenti alla gestione integrata dei servizi ambientali, il soggetto attualmente esercente all'attività, assicura l'integrale prosecuzione dei medesimi in particolare rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi e alle condizioni che regolano il rapporto. Poi autorizzare il sindaco, suo delegato, a intervenire nelle sedi competenti, nelle assemblee, per approvare lo statuto e apportare eventuali modifiche non sostanziali, questa è una formula di rito, disporre la pubblicazione sul sito della relazione dell'articolo 84 e trasmettere la stessa all'osservatorio dei servizi pubblici locali. Quindi qui è dove comunque uno screening che la relazione non sia vuota o che sia palesemente comunque non approfondita. Dopodiché dare atto che l'amministrazione provvederà nei tempi e nei modi. Ecco qui alcune, l'emendamento che abbiamo girato, fatto girare, prende atto di alcune osservazioni uscite da alcuni consiglieri comunali nella seduta in cui abbiamo approvato la riconfigurazione di GSM e quindi da atto di questi e corregge anche per questa delibera le osservazioni. Quindi poi l'incarico a dirigenti e altro ad operare. Quindi questo è il contenuto della delibera. Io passerei velocemente allo statuto. e mi soffermo ovviamente su poche cose. Allora uno degli obblighi definiti ormai dalla normativa è l'oggetto societario che deve essere chiaro e non generico. Quindi è il cosiddetto oggetto unico. E quindi è stata riscritta sostanzialmente l'articolo 2 sull'oggetto sociale che prevede vi riassumo i servizi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti poi i servizi anerenti alle attività di bonifica poi i servizi cimiteriali anche se in questo momento non è previsto nel piano industriale un immediato avvio ma la previsione c'è sgombero neve servizi di controllo e monitoraggio del territorio servizi di gestione e manutenzione e reimpianto del verde pubblico i servizi cimiteriali e la gestione delle reti impianti e infrastrutture costruzione e gestione di impianti per energie rinnovabili attività di trasporto inerenti e officina meccanica progettazione e costruzione di impianti quindi tutto il resto è stato riscritto ed è sotto il profilo di altri rilievi qui abbiamo riscritto la norma rafforzato la norma sul controllo analogo e sulla tutela dei soci minoritari che peraltro vedete qui non ci sono modifiche quindi le trovate scusate un attimo che sono andato troppo avanti eccole qui quindi le prime le ulteriori modifiche sono sulle competenze dell'assemblea dove è stato prevista sono state previste dei quorum un po' più alti su alcune dei quorum di due terzi su alcune tipologie di deliberazione quindi all'articolo 17 proprio per rafforzare il controllo analogo ecco quindi sullo statuto direi che non è che ci sono cose al di là dell'articolo due cose stravolgenti sulla convenzione invece per il controllo analogo che è uno dei punti che rendono legittima cioè che rendono indispensabili per la legittimità della condizione di società in house cioè società in casa sostanzialmente quindi anche qui abbiamo ripetuto l'oggetto che riprende lo statuto e poi non è che ci sono grandi grandi modifiche sostanzialmente quindi obblighi quindi la parte interessante cioè interessante quindi che poi che è oggetto di ovviamente invece di vostra puntuale valutazione è la relazione ecco le linee guida per riposizione del contratto è molto più stringente del contratto vigente prevede anche obblighi di clausole di revisione da introdurre poi nel contratto il parere di revisione dei conti che abbiamo visto favorevole è il scusate che ho perso il piano eccolo qua e andiamo alla relazione eh articolo 34 che ritroverete periodicamente perché è un'attività che sembra anche nella nella nuova nel nuovo decreto legislativo sulle società partecipate viene incrementato questa attività periodica di verifica e di revisione dello stato delle proprie società e quindi con con questa relazione si dà conto del rispetto del quadro normativo quindi del fatto della scelta dell'in-house dei requisiti che ha GEA di in-house quindi sostanzialmente che ci siano tutti i soci pubblici che ci sia un controllo analogo che viene effettuato tramite l'assemblea di controllo analogo ma anche tramite previsioni contrattuali che impongono il controllo di gestione quindi sostanzialmente il nostro controllo di gestione comunale viene esteso alle società in-house con quindi con una previsione annuale di individuazione di obiettivi del bilancio poi ovviamente il bilancio consolidato in termini contabili ma anche la previsione di obiettivi e di budget iniziali non solo di bilancio nel senso di rendiconto quindi questo sotto il profilo formale GEA ha tutte queste caratteristiche vi do solo una curiosità su una delle pressioni per cui l'amministratore unico sollecitava la chiusura dell'operazione perché c'è un problema anche sul nome sul nome c'è stata c'è una società europea che ha eccepito che ha un nome simile ed è più datata e quindi è una società tedesca mi pare su cui ci siamo impegnati ad aggiungere non so GEA ma di gestione a denominazione completa quindi a quel punto per loro non ci sono problemi di gestione ecologica esatto esatto e quindi i tempi stanno scadendo per fare questa modifica quindi è una cosa in realtà per noi banale ma che ha messo probabilmente che le grandi società internazionali hanno anche degli uffici che monitorano queste cose e quindi che hanno comunque su cui bisogna stare attenti perché dietro ci sono comunque attenzioni di tipo legale ecco dopodiché la relazione dà conto attraverso una serie di dati forniti dalla società e rilevati per quanto rilevati da altre dai siti e comunque da chi pubblica dalle società che pubblicano i bilanci di diciamo una di essere in linea con i prezzi di mercato e quindi utilizzando parametri diversi ovviamente che vanno dal dal costo di produzione per abitante dalla tari cioè dalla tariffa che è media che pagano i cittadini e confrontandolo poi per dimensione e per tipologie di città perché è ovvio che è diverso raccogliere rifiuti a Trieste o raccoglierli al comune di Tramonti no per distanze cioè ci sono no ci sono ecco e quindi dall'analisi che abbiamo fatto diciamo che i prezzi praticati da Gea sono all'interno del range dei prezzi praticati sul mercato che variano comunque anche in modo importante ma su questo potrà darci qualche informazione di più l'amministratore unico quindi io sotto il profilo formale dico la relazione dà conto di questo e non ho motivi anche sotto il profilo di legittimità di dire che quello che andiamo ad approvare sia legittimo poi non entro sulle opportunità perché le scelte se fare l'inaus o appaltare competono comunque se sono di principio poi è ovvio che ogni scelta va motivata e bisogna capirne le conseguenze quello che vi posso dire sotto profilo formale è che con il meccanismo avendo Pordenone in questo momento il 96% mi pare della società è in grado se ne dimostra la convenienza quindi economica è in grado di smontarla quando vuole di cederla di far entrare il privato cioè di dare tutta una serie di indicazioni avendone cioè in realtà è una compagine di molti azionisti ma dove il comune di Pordenone di fatto non solo ha la maggioranza ma ha la quasi totalità delle azioni e quindi ogni tipo di decisione purché motivata e anche economicamente è fattibile quindi questo tipo di decisione non preclude poi scelte successive fermo restando che poi il contratto tipo dirà che ci saranno delle revisioni anche delle modalità di servizio periodiche ecco sul contratto di servizio tipo non mi sfruttare più di tanto io in questo momento cederei forse la parola al dottor Mariotto per l'illustrazione del piano industriale e magari qualche dettaglio in più sul confronto delle tariffe per l'illustrazione per l'illustrazione di servizio ah sì sostanzialmente questo è il la presentazione fatta in serie di commissione consigliare nella presentazione della delibera in oggetto. Il contenuto del piano industriale dell'azienda, come verrà discusso questa sera, si compone di quattro aspetti fondamentali. Uno, quello di andare a inquadrare il profilo dell'azienda, l'andamento di come è arrivata ad essere GEA, dove era partita. Un confronto con gli operatori e settore, che di fatto è strumentale e funzionale al benchmarking necessario nella delibera, e un'analisi di quelli che sono i fattori di cambiamento del nostro mondo, dei rifiuti, che in effetti anche in questi pochi mesi ha dimostrato una propria vitalità, oppure una propria espressione proteiforme, perché è veramente difficile rincorrere tutto quello che è le continue modifiche sul mondo delle partecipate che viene avanti. E quindi di fatto, in funzione dei fattori di cambiamento esterni, interni, della società, quelle che sono le linee strategiche che dovranno portare a un'evoluzione della società stessa e anche dei servizi e un miglioramento della qualità di quello che viene reso al cittadino, che di fatto è in questo momento l'utente, il cliente e il proprietario dell'azienda. E quelle che sono di conseguenza le provisioni economiche e finanziarie, strutturate attraverso una simulazione sia del conto economico, sia dello stato patrimoniale della società, che poi è quello che riguarda le simulazioni cash flow per gli anni a venire. Allora, premetto che per avere una comparazione per quanto più possibile uniforme si deve tornare un po' indietro, perché per avere dati relativi a livello locale, regionale, nazionale, le fonti non sono aggiornatissime. Quindi, dove è necessario siamo stati costretti a usare il 2013 come riferimento, dove è possibile abbiamo usato anche il 2014. Adesso sono disponibili anche i dati del 2015, però vi ricordo che questa elaborazione è stata fatta ancora mesi fa e effettivamente i dati vengono poi via via disponibili. Quindi se avete necessità di chiarimenti o approfondimenti anche su dati più recenti, io per quanto possibile spero di darveli, di riuscire a darveli. Comunque, dal punto di vista della raccolta differenziata, voi vedete che GEA e il Comune di Pordenone in particolare ha tranquillamente traguardato i risultati di raccolta differenziata previsti dalla legge con ampio anticipo e negli anni scorsi è stata la prima di fatto, sia a livello provinciale che regionale, per quanto riguarda la raccolta differenziata. Attualmente siamo tra l'82 e l'83%, questo è il dato del 2015, che è stato confermato i dati del 2014. Quindi, diciamo, nell'ambito di riferimento, GEA non è sicuramente seconda a nessuno, anzi è prima. e devo dire che quello che sono stati i riconoscimenti in questi anni a vario livello nazionale, penso ai premi comuni dei cicloni, l'attestazione dei lanci in tema di raccolta differenziata al Comune, quello che è stato il riconoscimento a livello nazionale per il servizio reso durante la donata alpini, con un contattore ambientale che ha dimostrato il performance ambientale di raccolta effettuata a GEA in una situazione di stress che vi assicuro è stata notevole, come tutti l'abbiamo vissuta, ha dimostrato comunque che GEA è una delle società di riferimento dal punto di vista di raccolta in Italia. Non a caso GEA fa parte del direttivo nazionale di Utili Italia e quindi è anche vista da un punto di vista se può sedere a certi tavoli di lavoro a livello nazionale anche sicuramente merito e performance aziendali. Come vi dicevo, come raccolta differenziata ampiamente è superato i livelli di legge, il 65% che doveva essere la raccolta differenziata nel 2013, il 65% è stato raggiunto subito con l'introduzione del porta a porta nel 2009 e quindi adesso dobbiamo cercare di migliorare e mantenerci primi in Italia, perché nel 2014 eravamo ancora primi, nel 2015 non so, ma se non siamo i primi saremo tra i primi tre d'Italia. Da un punto di vista di andamento storico, cosa dire, fino all'81 il Comune gestiva in autonomia, quindi in economia con propri dipendenti, la raccolta di rifiuti. Poi nell'81 nasce AMIU, l'azienda municipalizzata, che nel 1994 si è trasformata in un'azienda speciale per il servizio. Già nel 1996 c'è stata una novità importante, nel 1996 è stato acquisito il settore verde del Comune, quindi una decina di dipendenti è passata all'AMIU, già vent'anni fa. Questo passaggio però non ha riguardato tutto il settore verde del Comune, perché una piccola parte del servizio è rimasto in capo al Comune e questo è l'oggetto dell'esternalizzazione in cui si sta discutendo questa sera, perché la discussione riguarda una parte residuale di servizi che dovrebbero garantire, una volta unificati sotto un'unica regia, una maggiore efficienza del sistema. Nel 2000 abbiamo acquisito i servizi coordenonsi in convenzione col Comune, nel 2003 GEA, o secchio a quella che era la normativa all'epoca, si è diventata una società per azioni, nel 2015 ha acquisito il ciclo integrato dell'acqua e quindi di fatto è diventata una multiservizi, nel 2008 è entrato Roveredo in piano come servizi, nel 2011 in seguito all'unbounding il servizio idrico si è staccato, quindi è nata Idrogea, quindi le due società si sono separate e nel 2015 GEA ha acquisito i servizi a Monte Reale e Valcellina, sempre in confidamenti in house. Quindi diciamo che la società è relativamente piccola, però comunque anche in questi anni, come vedete, ci sono state parecchie evoluzioni. Per quanto riguarda il conto economico, noi ci siamo ovviamente focalizzati da un punto di vista storico ai dati successivi all'ascissione con Idrogea, perché altrimenti non avremmo avuto dati comparabili o significativi. Diciamo che, come vedete, il fatturato negli ultimi anni, con l'eccezione del 2014, è sceso. Questo non è stato di fatto da intendersi come un dato negativo, perché la diminuzione del fatturato diventa di fatto diminuzione delle tariffe applicate ai cittadini, in gran parte. Quindi, in seguito al spending review, alle sollecitazioni, a parte non solo di Pordenone, ma anche degli altri soci, quindi Pordenone, si è diminuito il costo di gestione del rifiuto, quindi sia in termini di servizi che di avvio, recupero e smaltimento, e se vedete, comunque il risultato, quindi il risultato economico della società, si è mantenuto positivamente, pur con una contrazione del fatturato. Questo dimostra la capacità di fare efficienza dell'azienda. Vi ricordo che in questi anni, Pordenone ha cambiato il sistema di raccolta, per esempio in centro storico, in zona nord, Cordenone si è introdotto il porta a porta, Roveredo ha dimezzato le frequenze di raccolta, e quindi tutti, anche Montereale, tutti i comuni hanno fatto dei cambiamenti, e su questo GEA ha dato sempre risposta, perché di fatto un'azienda in house dà quella flessibilità di interpretare anche le necessità storiche del momento, e quindi anche di fare velocemente dei cambiamenti, senza prospettare o presentare rigidità, che potrebbero di fatto in altri contesti, immagino un'azienda privata con un contratto, con un capitolato fissato, porre. Ecco, il 2014 abbiamo avuto un aumento di fatturato importante, perché di fatto gli alpini sono stati servizi in più. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, vi dico semplicemente che, come vedete, negli ultimi anni, GEA ha ricominciato a investire in attrezzature, che per noi attrezzature e contenitori rappresentano, per una società che fa raccolta, rappresentano il cuore degli investimenti, e quindi di fatto abbiamo ricominciato a investire sia in parco mezzi che in contenitori. da un punto di vista dello stato dell'attivo, quindi i crediti verso clienti, sono anche dimezzati in questi anni, e quindi ha anche dimostrato una capacità di miglioramento anche della governance dal punto di vista amministrativo-gestionale, perché questo ha permesso ovviamente un flusso di cassa posto in maniera diversa e più di servizio alla società. Per quanto riguarda il passivo, come vedete, alla fine abbiamo comunque l'elemento più significativo è stato che nel 2013 GEA ha distribuito un milione di euro di utili ai comuni soci, un milione di euro che di fatto ha portato a una riduzione del nostro patrimonio netto, che però alla fine assolutamente sì, è stato impiegato per l'imborso del cano idrico, comunque hanno rappresentato per noi una, diciamo, sericorsa a musigna di GEA. Allora, per quanto riguarda il flusso di cassa di GEA, come vedete, è stato positivo in questi anni, le variazioni come vi dicevo è dato dalla distribuzione di utili nel 2013, però rispetto al 2010 abbiamo azzerato il debito finanziario verso le banche e quindi anche in termini di indicatori di sintesi, quindi la capacità di fare reddito sugli investimenti e sul e sul fatturato dimostra una società sana, positiva e in crescita. Da un punto di vista, vabbè, questi sono dati, diciamo, che fanno parte della, di quelle performance, quindi rappresentazioni grafiche di quello che sono, che è stato le tabelle precedenti, se volete possiamo andare anche in analisi di dettaglio, però magari andiamo su cose più significative. Allora, questi sono come è strutturato il, i ricavi dell'azienda, quindi i vari servizi affidati, quindi al 2000, stiamo parlando ancora al 2014, perché vi ricordo qui manca a Monte Reale, abbiamo cercato di lavorare su annualità comparabili con gli altri, con le altre società di cui avevamo i dati, stiamo parlando quindi del 2004, fino al 2013, questi sono i ricavi, come sono evoluti nel corso degli anni, come vi potete vedere, c'è stata una forte contrazione dei, del costo, dei ricavi, di riflesso dei costi applicati ai comuni per appunto l'effetto spending review che per esempio per il comune di Pordenone sono passati da 6 milioni e 5 a 6 milioni e 100 per i rifiuti, per il verde da 1,448 a 1 milione di euro, 1 milione di euro e 52 mila nel 2013. Cordenone c'è stata la riduzione forte come aumento di fatturato però ha comportato una diminuzione del costo complessivo perché Cordenone non affida anche il servizio smaltimento cioè un rapporto diretto con l'azienda. Su Roveredo anche qui vedete che si è lavorato per diminuire i costi. Per quanto riguarda un confronto con gli operatori e il settore chiaramente la questione non è così semplice perché bisognerebbe avere a disposizione un panel di confronto con realtà simili non solo dal punto di vista dimensionale ma anche dal punto di vista dell'attività e questo non è semplice perché allora GEA la conoscete Sdua è una società che ha anche un impianto di raccolta un impianto di smaltimento ed è di fatto opera sul mercato perché è controllata dal pubblico ma di fatto non ha affidamenti in house ambiente e servizi nel proprio bilancio consolidato oltre alla raccolta ha anche un impianto gestito da un'altra società però di fatto al 99,9% di ambiente e servizi che è ecosinergie che è un impianto industriale ISA Gorizia non ha attività di raccolta perché esternalizza tutto però ha un impianto di compostaggio la NET ha attività di raccolta in parte va in gara su gran parte dei propri territori e ha impianti AT2000 non ha nulla perché è esternalizzato tutto quindi non ha camion non fa raccolta ha ditta esterna che fa la raccolta e ha adesso aperto un impianto di compostaggio da pochi mesi a Cegas è ancora una realtà diversa quotata in borsa una spa che lavora adesso è stata comprata da era però per quanto riguarda questi dati stiamo parlando di luce gas acqua su Trieste Padova quindi alla fine è molto difficile trovare realtà analoghe comparabili quindi alla fine l'analisi viene fatta su macro dati che vengono aggregati per similitudine o comunque per dare un quadro realistico e oggettivo della situazione senza con massima trasparenza quindi come vedete quelli che sono i dati sia in termini di fatturato il rapporto di ricavita e il capitale investito gli oneri finanziari eccetera da un punto di vista sicuramente che va notato è che comunque il GEA ha una buona capacità di ricavo sul capitale investito che per esempio altre aziende non hanno quindi per dire ogni parametro può essere indicativo comunque della situazione che vi ho rappresentato prima perché di fatto Senet ha fatto investimenti importanti sugli impianti SNU ha fatto diciamo investimenti importanti sugli impianti e non ha un ricavo sufficiente come vedete il rapporto si abbassa gli oneri finanziari su quello che è il guadagno prima delle tasse l'ebit come vedete GEA ha un oneri finanziario praticamente nulli mentre invece altre società più indebitate SNUA Ambiente Servizi per esempio ha oneri finanziari molto alti in rapporto proprio e quindi questo vuol dire che comunque da un punto di vista finanziario ci sono società che pur avendo conti economici in ordine comunque presentano situazioni patrimoniali con degli indebitamenti da un punto di vista del confronto del settore come vedete questi sono i dati che vengono ricavati dall'analisi dei piani della Tavi ora come vedete GEA in qualche modo si posiziona a metà è sicuramente più bassa delle realtà urbane di dimensioni analoghe o superiori quindi stiamo parlando di Trieste Udine o Gorizia è più alta di realtà locali come Ambiente Servizi o SNUA questo però è vero perché GEA è chiaramente influenzata dal dato di Pordenone perché se io andassi a togliere dal costo medio di GEA la realtà di Pordenone noi andremo ad abbassare molto il costo medio perché Cordenons attualmente vale 96 euro abitante Monte Reale 84 euro abitante Roveredo poco più di 100 euro abitante quindi se io vado a depurare il dato di GEA da Pordenone dimostriamo che GEA a parità di comuni è assolutamente competitiva cioè per dare un dato se Sacile più o meno è grande come Cordenons Cordenons vale 1 milione e 7 Sacile costa 2 milioni e 4 il 20% in più quindi il tema che si pone sul confronto è questo cioè GEA riesce almeno dimostra di saper fare comuni analoghi per dimensioni ai stessi prezzi competitori che i competitori esterni riescano a fare Pordenone agli stessi prezzi GEA è tutto da dimostrare perché è Pordenone cosa cosa perché è più alto perché è più alto il problema di Pordenone allora il problema di Pordenone di fatto sono almeno tre i fattori uno è la complessità della città perché su questo in effetti è utile anche vedere io mi sono procurato questo dato che è il dato del rapporto dell'ISPRA che è l'istituto nazionale per la gestione dei rifiuti da Roma che ogni anno fa un report allora se io vado a vedere l'analisi di costi nazionali fatto da ISPRA dimostra chiaramente che con l'aumentare del numero abitanti il costo di gestione dei rifiuti aumenta quindi se io passo non si vede benissimo però questa è di fatto l'ultima è la linea gialla quindi quindi alla fine cosa perché perché un comune più grande costa di più di un comune più piccolo perché è complesso ci sono più servizi sono più articolati i bisogni cittadini sono diversi e quindi è dimostrato che un comune più grande costa di più come si è visto anche prima Gorizia Trieste Udine costano di più perché sono più complessi di Fanna Frisanco di Turiaco e questo è un dato oggettivo faccio solo pensare che un giorno producono i rifiuti a Pordenone abitando fuori per lavorare e quindi la produzione pro capite di rifiuti in una città è più grande del pro capite di rifiuti in una città tutta e quindi andiamo a con noi che vediamo l'oro questo è un focus sulla sulla provincia di Pordenone come vedete abbiamo ambienti e servizi che i comuni scadono al 2030 focus una un maggiore attenzione eh vabbè vedremo di vabbè no posso dire al consigliere Giannelli che almeno lei non sono come Petrangelo un po' meno inglese non sospetto benissimo dopo benchmarking questa seconda parola inglese dai comunque che è comunque anche latino focus dai è latino focus comunque una maggiore attenzione una maggiore livello di di attenzione sulla provincia di Pordenone allora come vedete anche qui abbiamo situazioni molto diverse che in una ottica naturale poi vado anche nel durante l'esposizione si andrà a affrontare anche un'ottica di lavorare integrazione e fusioni a livello provinciale sono condizioni di cui bisogna tener conto bene da un punto di vista di quelli che sono i fattori cambiamento sulla società e come andranno a influenzare le linee strategiche su come dovremmo agire per rispondere a questi fattori cambiamenti cambiamento si va a individuare almeno due tipi due macro macrotipi uno sono i fattori esterni quindi tutto quello che deriva dalla normativa e dalla pianificazione regionale e un altro invece è quelli che sono i fattori cambiamento interni quindi i nostri impegni i nostri commitment come si dice in termini di investimenti nel efficientamento del servizio e poi ci sono anche degli aspetti che vanno a scavalco di due quindi su aggregazioni societarie e su acquisizioni di nuovi servizi nuovi comuni per quanto riguarda la normativa non vi voglio tediare sappiate solo che tutta questa cosa che è stata scritta quindi anche l'aspetto della relazione all'articolo 34 dovrà essere di nuovo riscritta probabilmente tra un po' perché ci dovrà essere la si si vocifera insomma che la regione Friuli andrà a legiferare in termini di autorità unica per la gestione dell'acqua e dei rifiuti quindi bisogna capire come questo andrà a impattare sulla società e poi c'è tutto quello che è il tema per esempio del decreto Madia sulla pubblica amministrazione su riflesso e partecipate come vi dicevo questo è stato fatto qualche mese fa adesso potrebbe anche cambiare nel senso che la regione Friuli sta affrontando il tema dell'atto quindi dell'autorità d'ambito non intesa come mera espressione geografica ma come come agenzia dotata di poteri autonomi che di fatto andrà a gestire il ciclo integrato i rifiuti per la regione su basi subprovinciali di fatto al momento non c'è nulla in regione che parli di atto però questo ci si aspetta novità in futuro l'UTI è un altro aspetto importante nel senso che come l'UTI andrà a impattare sulla gestione dei rifiuti non è ancora chiaro soprattutto per quanto riguarda le modalità di salvaguardia degli affidamenti in essere quindi rispetto a questo noi come GEA abbiamo individuato alcune alcuni temi alcune linee di sviluppo insomma per andare a migliorare le proprie prestazioni sicuramente uno è lavorare sulla riduzione dei costi di smaltimento via recupero un'altra è una nuova organizzazione logistica del sedio operativo il terzo miglioramento della qualità raccolta differenziata e poi come altri canali che di fatto in questi anni abbiamo cominciato a usufruire sono anche accessi a contributi finanziamento per esempio dei bandi regionali provinciali a cui si è cominciato a accedere in maniera strutturale a tutti quelli che sono i bandi dei consorzi filiera vi ricordo che in questi anni comunque i consorzi filiera hanno dato almeno 40.000 euro di contributi a fondo perduto a GEA per le proprie iniziative e quelle che sono nel momento i contributi ai consorzi quindi qualsiasi comunque decisione di sviluppo deve portare ovviamente a una riduzione delle tariffe esercitate ai cittadini perché questo è stato l'impegno di GEA ed è anche dimostrato i numeri perché in questi anni l'incontrato il servizio nei comuni a noi gestiti è sempre diminuito questo a fine l'ha già spiegato in qualche maniera il segretario dico solo questo che di fatto quando si parla di razionalizzazione partecipata quando si parla della famosa riduzione dalle 8000 alle 1000 non stiamo parlando di GEA non stiamo parlando di società come GEA stiamo parlando di società che fanno servizi strumentali che fanno stiamo parlando di società che gestiscono negozi che fanno servizi sul mercato in concorrenza operatori economici stiamo parlando di società spesso senza dipendenti ma solo con amministratori società che non presentano i bilanci che sono in rosso queste sono le società che sono sotto l'occhio di analisi del governo che dovrebbero essere tagliate le mille che rimangono sono società come GEA sono società che esercitano che fungono la funzione di erogare servizi pubblici locali e rilevanza economica che sono in positivo che hanno quindi bilanci in attivo e che di fatto sono competitori autorevoli e efficienti sul mercato quindi alla fine l'efficienza delle partecipate che rimarranno operative viene anche dimostrata dalla loro trasparenza nel mostrare i conti come stasera viene fatto vabbè questa di fatto l'abbiamo già detta nel senso che comunque il piano cotarelli e realizzazione delle partecipate per in gran parte si è rivelato uno slogan che di fatto ha poca incidenza su le realtà industriali come la nostra per quanto riguarda invece il piano di razionalizzazione che il comune ha avviato in questa fase cosa riguarda riguarda appunto si è detto il cambiamento dello statuto di GEA il cambiamento dello strumento di governance attraverso il controllo analogo e la riperimetrazione dell'azienda come unico service e quattro dei servizi ambientali al servizio comune quindi non solo più rifiuti ma anche il verde a 360 gradi e la riscossione e l'accertamento della Tari perché alla fine una parte importante del ciclo di gestione dei rifiuti non dimentichiamoci che è proprio quella della bollettazione a riscossione e come vediamo anche negli altri parti d'Italia dove ci sono società che hanno una maggior maturità passatemi il termine di gestione dei rifiuti controllano il ciclo integrato compresa la bollettazione e la tarifazione quindi il comune al comune rimane la competenza la potestà di approvare le tariffe ma poi il mero attività strumentale l'accertamento la riscossione la gestione degli insoluti rimane in capo all'azienda togliendo dal bilancio del comune questa posta per quanto riguarda i verdi parchi attualmente noi abbiamo una come vedete ci sono un servizio molto articolato sul comune abbiamo 12 parchi grandi dimensioni abbiamo orti sociali abbiamo aiuole abbiamo molte aree soggette a sfalcio il verde delle scuole abbiamo la gestione di scarpate e argini e abbiamo anche delle aree verdi di supporto a edifici storici penso Villa Galvani Villa Cattaneo di notevole importanza in Villa Galvani in particolar modo abbiamo un rosetto storico che ci invidia l'Italia intera abbiamo quindi che il comune ha attività gestite in economia attività gestite in convenzione attività esternalizzate per attività esternalizzate di fatto cosa abbiamo abbiamo in parte abbattimenti monitoraggi arbusti che sono già affidate a GEA potature sfalcio verdi che sono già affidate a GEA manutenzione di cigli stradali che sono già affidate a GEA poi abbiamo servizi custodia che già dal primo gennaio comunque gestiamo come GEA quindi di fatto l'apertura dei parchi di cancelli tramite apertura dei cancelli dei parchi della città e la pulizia dei parchi come attività gestite in convenzione prego in questo momento esternalizzata le attività gestite in convenzione come vedete sono la manutenzione e sorveglianza della Ghetti Iroai che da primo novembre è comunque lasciata in convenzione a un proprietario sul fondo abbiamo la manutenzione del parco John Lennon e la manutenzione area verde via Canin che sono invece affidate in convenzioni e associazioni rispetto a questo ci sono anche altre aree gestite in convenzione con associazioni che sono quelle di fatto di via Brusefiera dietro l'area del parco 2 e quella del parco Baleno di l'AIFA sì cosa vuol dire attività gestite in convenzioni con associazioni in qualche modo precorrendo quella che era la il regolamento dei beni comuni già ci sono state fatte delle messe in piedi delle convenzioni con associazioni locali che di fatto curano aree verdi di vicinanza alla propria tessuta alla propria attività per dare in qualche modo sia una maggior flessibilità al servizio ma anche per garantire la possibilità che queste associazioni rivolgano in qualche modo abbiano un ruolo attivo nella cura del verde del proprio territorio come vedete tutto questo servizio in termini di personale per il comune riguardano attualmente un terzo di un dirigente di settore un funzionario tecnico un terzo di un funzionario idraulico di struttura di un manutentore e cinque cantieri di lavoro quindi di fatto borsisti di questi manutentori nel frattempo uno è anche andato in pensione e quindi di fatto non sarà più oggetto di possibile passaggio questo è il conto economico del servizio del verde del verde che dovrebbe passare a GEA secondo la delibera allora come vedete stiamo parlando di circa 250 mila euro a livello di budget questo è quanto spende attualmente il comune per il servizio chiaro che GEA dovrà svolgere questo a un costo minore per dare efficientamento al sistema ricordo anche che il fatto di avere in capo a due soggetti la gestione del verde in passato ha dato anche delle diseconomie perché non sempre c'era chiarezza sulle competenze non sempre c'era chiarezza su quello che doveva essere fatto e quindi da questo punto di vista noi siamo convinti che questo passaggio porterà a una diminuzione del costo complessivo gestito dal comune e anche a un miglior efficientamento del servizio per quanto riguarda invece la riscossione Tari come vedete il costo di gestione in capo adesso al comune riguarda ovviamente dei costi di ammortamento del software di gestione quelli che sono i costi di postalizzazione di invio quindi delle cartelle agli utenti l'agente di riscossione coattiva che è Equitalia che tutto questo riguarda un istruttore all'interno del comune e quattro funzionari anche in questo caso stiamo parlando di un costo pari a 250.000 euro a livello di budget che il comune quindi andrà a togliere rispetto ai propri costi sia in parte di ammortamenti che in parte di spesa corrente perché noi insistiamo sulla importanza strategica del passaggio della gestione tariffa a GEA perché di fatto il controllo del sistema attraverso la tariffa dà la possibilità anche di avere un doppio incrocio di controlli sull'evasione e sull'illusione tariffaria perché non c'è solo la possibilità di non mettersi a ruolo in comune e quindi dover necessariamente andare a incrociare banche dati anagrafica dei conti dell'ener eccetera ma anche di fatto andare a armonizzare quello che è il passaggio della presa in carico di GEA dell'utente tramite la consegna dei contenitori per il porta a porta quindi il controllo del territorio attraverso la raccolta domiciliare accoppiato a una gestione diretta della tariffa sicuramente darà buoni risultati in termini di riduzione di evasione totale nel senso che confidiamo che una buona parte di realtà che adesso troviamo magari che sono in ritardo a mettersi a ruolo con la banca dati della Tari una volta unificata la gestione con il gestore quindi GEA potremmo andare a fare questo allineamento e quindi questi controlli di fatto in tempi reali quindi questi sono prego questa è la cosa che noi proponiamo a tutti i comuni è una cosa che partirà col comune di Pordenone quindi questo diciamo è il quadro di sintesi quadro sinottico degli affidamenti dei nuovi affidamenti a GEA per i servizi che si diceva la gestione al verde residui in capo al comune e quella che è l'accertamento riscossionatari per quanto riguarda la gestione al verde di fatto da ora perché già adesso in qualche modo siamo subentrati in alcune attività e per quanto riguarda invece l'accertamento riscossionatari a partire dal primo di gennaio 2017 un altro fattore importante di cambiamento dovrà essere la rimodulazione della tariffa di GEA agli impianti di riferimento noi confidiamo che con rafforzamento di quello che è il portafoglio di GEA che per noi significa anni di attività anni di affidamento si potrà andare anche a ricontrattare con gli impianti di riferimento una riduzione delle tariffe di accesso perché in qualche modo si potrà garantire maggiori quantità di rifiuti nel tempo quindi con una garanzia di conferimento per quanto riguarda la simulazione del conto economico e quindi anche poi dei prospetti che andiamo a vedere alla fine vediamo un po' quali sono stati i dati di base del piano industriale allora dal punto di vista ricavi vendite e prestazioni noi abbiamo definito comunque a livello prudenziale nessun aumento dei costi di servizio ai comuni quindi tutto quello che viene evidenziato come variazioni di servizio sono considerati come efficientamento del sistema che non impattano sulle tariffe l'unica cosa che impatta sulle tariffe sono gli ammortamenti di nuove attrezzature che ovviamente però dovremmo anche concordare con il nostro dante causa quindi l'amministrazione abbiamo presupposto l'avvio della tariffa puntuale quindi la dismissione a raccolta multimateriale carta plastica metalli che su coordenone è già fatta dovremmo farla su coordenone come gestione di scarica viene confermato il valore stanziato nel 2014 anche questo è prudenziale perché noi ci aspettiamo che con la chiusura di scarica il costo di gestione di scarica del percolato diminuisca nel tempo abbiamo stimato un corrispettivo da CONAI per la raccolta differenziata in funzione di quella che è la qualità attuale prevista della nuova raccolta abbiamo aggiunto il servizio di scorsione Tari abbiamo aggiunto l'adeguamento del contratto servizio per il comune di Portenone abbiamo introdotto anche una previsione dell'avvio di servizi a soggetti privati per la gestione di rifiuti assimilabili cioè GEA dovrà ovviamente confrontarsi sul mercato per la gestione anche dei rifiuti non urbani per dare un elemento in più di servizio al territorio ma anche per avere una maggior fatturato e ovviamente anche una minore incidenza delle spese fisse e una proposta per la realizzazione di un nuovo ecocentro a Portenone in sostituzione dell'attuale di via Nuova di Corva che ha grossi problemi dal punto di vista strutturale perché non può essere ampliato come sapete ha una servitù per il passaggio di un gasdotto quindi non può essere pavimentato completamente e probabilmente in una anzi sicuramente una città come Portenone avrebbe necessità e bisogno di un ecocentro più grande e pensato in maniera più moderna altri ricavi abbiamo previsto quelli che sono la valorizzazione delle frazioni differenziate quindi con valore i RAE l'olio i ferrosi e tutto quello che può arrivare da contributi e partecipazione ai bandi di consorzi obbligatori della provincia regione e così via ma anche da consulenze terzi vi ricordo che per esempio quest'anno GEA ha fatto già consulenze per altre aziende della regione sulla raccolta differenziata e quindi questo ha dato di fatto oltre a dare un lustro anche alla società ha permesso anche di avere un introito che di qualche modo modesto però significativo dal punto di vista anche del cambiamento di mentalità e di approccio di GEA al mercato da un punto di vista dei costi prima abbiamo parlato dei ricavi dal punto di vista dei costi le previsioni alla base del conto economico sono state che nel 2017 ci siano tre persone in più per il verde tre persone per il servizio di scossione tari la passaggia full time del personale impiegato attualmente part time e la riconferma degli attuali dipendenti a tempo determinato il costo medio è stato valutato in termini di costo medio equivalente e i costi per gli anni a venire sono stati valutati il 2% su base annua sì sì è chiaro che queste tre persone del servizio verde di fatto è legato al fatto che il comune va anche a perdere personale che attualmente veniva impiegato nella gestione del verde per quanto riguarda materie prime sono state riconfermate quelle 2014 con un incremento prudenziale 2,5% annuo a crescere e ovviamente con delle correzioni in funzione delle previsioni dei singoli servizi per il costo di gestione percolato è stato confermato il 2013 con un incremento annuo del 2,5% anche questo prudenziale perché come si diceva ci aspettiamo che la chiusura di scarica dia un grosso contributo a risolvere questo problema abbiamo ipotizzato una contrazione dei costi di smaltimento a rio-recupero come da contrazione quindi con la previsione di riadeguamento di contrattazione poi questo dato è stato comunque aumentato 2,5% su base annua esternalizzazione di servizi componente minima e costante cosa vuol dire questo di fatto noi come servizi esternalizzati in GEA sono molto pochi perché per quanto riguarda i rifiuti abbiamo solo la custodia degli ecocentri e la pulizia delle isole ecologiche da rifiuti abbandonati e per quanto riguarda il verde viene esternalizzato su una parte legata agli sfalci per esempio sul verde l'esternalizzazione di servizi attualmente da bilancio sono dati di bilancio assolutamente verificabili vale 180.000 euro quindi meno del 15% del fatturato complessivo di un milione di euro sul verde perché di fatto vi ricordo che abbiamo 12 operai di GEA che lavorano ogni giorno sul campo per la gestione del verde per quanto riguarda il corrimento beni terzi anche questi sono stati rivalutati 2,5% su base annua tolti i costi di locazione perché una cosa importante è l'avvio della sede unica di GEA e quindi con il fatto che i 100.000 euro che noi ogni anno paghiamo adesso per gli affitti verranno a togliere sostituendoli con investimento o nelle diverse gestioni rivalutate 2,5% base annua e gli ammortamenti di fatto anno per anno valutati sui valori cespite altri elementi di valutazione della simulazione per i 15 anni al 2016 al 2030 sono stati l'acquisto di nuovi bidoni e l'adeguamento di nuovi contenitori per il porta a porta puntuale l'acquisto di nuovi bidoni per la raccolta domiciliare monomateriale questo riguarda effettivamente coordenance con l'abbandono in multi ordinari interventi adeguamento potenziamento dei contenitori per la raccolta l'adeguamento e rinnovo per gli automezzi quindi anche con un'attenzione a quello che è l'impatto ambientale degli automezzi quindi con una nuova motorizzazione vi ricordo che oltre alle due spazzatrici elettriche GEA in questi anni ha acquistato una spazzatrice a metano ha riconvertito tutte le macchine il proprio parco macchine diciamo le macchine di servizio a dual fuel abbiamo gli investimenti della nuova serie operativa e del nuovo ecocentro questi investimenti valgono sono stati valutati in 8 milioni e mezzo di euro dal punto di vista della valutazione dei crediti sono stati utilizzati i tempi di incasso riscossionitari che attualmente sono stati comunicati al comune come debiti da parte dei clienti sono stati utilizzati tempi di pagamento di 60 giorni e come fondo di finanziamento questo è stato confermato non per lo 0,5 ma per lo 0,95 abbiamo avuto un accesso al FRIE al fondo regionale di sviluppo economico industriale che ci ha dato un accesso a un fondo a un tasso estremamente agevolato 0,95% che di fatto questo costituirà il flusso di cassa per gran parte di nuovi investimenti stiamo parlando di un finanziamento di 3 milioni e mezzo di euro quindi questi sono nel dettaglio i valori di investimento per GEA 8 milioni e mezzo di cui 4 milioni e mezzo per il servizio di igiene urbana quindi 2 milioni e 100 per l'adeguamento e il ricambio non turnove che sarebbe la quinta e il ricambio attrezzature e contenitori per la raccolta di rifiuti 900 mila euro rotti per i mezzi d'opera quindi camion 660 mila euro per i contenitori per l'implementazione a tariffa puntuale a Pordenone 800 mila euro per gli adeguamenti sulla servizio di spazzamento e cleaning 50 mila euro per i contenitori da monomateriale e la dismissione raccolta multimateriale su Cordenone servizio verde parliamo di investimenti per 770 mila euro sempre qui per l'adeguamento e il ricambio di mezzi d'opera prevediamo e questa è una cosa che sicuramente si dovrà discutere ma questa è la proposta di investimento di 700 mila euro per la realizzazione di un nuovo ecocentro a servizio della città di Pordenone di cui 300 mila euro per l'acquisizione di un'area di proprietà dei comuni di Pordenone che è dietro l'attuale sede di via Sario di Gea stiamo parlando di 10 mila metri quadri già dedicati dal PRG a servizio di igiene urbana e in questo in questo spazio si potrebbe realizzare un servizio un nuovo ecocentro che potrebbe garantire in maniera complessiva e adeguata quelli che sono esigenze della popolazione per un costo di 400 mila euro e la nuova sede operativa qui abbiamo messo il costo stimato che era stato approvato nel progetto che era stato approvato a giugno dalla giunta comunale attualmente le gare sono state espletate anzi la costruzione è partita nel mese di dicembre e le gare sono state espletate con ribasso del 15% quindi il costo è attualmente stimato a 2 milioni e 40 mila anche qui diciamo questi sono i dati di appunto di base d'asta della gara come vedete avevamo una la GEA ha la proprietà di un'area per 20 mila metri quadri in via Savi in cui all'epoca era stato costruito un impianto di compostaggio chiuso già l'impianto di compostaggio nel 2008 2009 questo edificio è rimasto di fatto inutilizzato in un'area di difficile valorizzazione economica perché in effetti in questo momento è difficile pensare di andare a vendere capannoni industriali a fronte di questa area che poteva ospitare tutte le attività di GEA GEA ha attualmente la propria attività dislocata su quattro sedi una sede amministrativa la sede il verde la sede via Savio e la sede storica dei camion di netezza urbana che è in via Nuova di Corva noi attualmente paghiamo più o meno 100 mila euro d'affitto all'anno per queste attività in particolare via Nuova di Corva siamo in affitto dall'83 o dall'84 quindi rispetto a questo una delle prime cose che mi sono posto quando sono arrivato a amministrare GEA è di risolvere questa situazione perché è impensabile da un punto di vista industriale illogico che uno paghi 100 mila euro d'affitto all'anno quando ha un'area e una struttura che può riportare a servire tutta la società e dare un valore di investimento perché noi andiamo a sostituire 100 mila euro di spesa corrente all'anno con un investimento che va a arricchire la proprietà arricchire il patrimonio arricchire la città di Porvenone quindi in questa area di fatto andremo a mettere un deposito per tutti i 50 camion di GEA perché comunque GEA ha 50 camion non ne ha due abbiamo 75 operai da sistemare in spogliatoide e corosi tra l'altro io veramente vi inviterei inviterei anche tutti i consigli comunali a vedere come attualmente è il deposito di Via Nuova di Corva abbiamo una sede vecchia vetusta che è difficile portare a condizioni decorose anche per i nostri operai e quindi questo è stato un impegno che ho preso sia con la rappresentante sindacale dell'azienda ma soprattutto con la proprietà col comune perché quando abbiamo cominciato a ragionare in termini di certificazioni ISO 9000 ISO 14000 o HS 18000 per la sicurezza sicuramente dovremmo fare un salto importante rispetto a condizioni lavorative che vi assicuro almeno per i lavoratori dell'anitezza urbana in questo momento non sono adeguati e non è neanche possibile andare a fare investimenti da un privato quindi in questa area avremo il deposito di mezzi avremo l'officina perché noi abbiamo un'officina per la riparazione proprio dei mezzi l'deposito container il magazzino cassonetti e contenitori l'area lavaggio mezzi la zona scoperta per eventuali serre per esempio per il verde e il parcheggio dipendenti questa è la prospettiva della nuova sede logistica abbiamo come vi dicevo una spesa accertata dalla gara di 2 milioni e 40 mila euro che di fatto abbiamo anche un piano di ammortamento di quello che è ovviamente l'impatto di questa spesa sul conto economico che di fatto andrà a zerare il proprio impatto già adesso minimo tra qualche decina d'anni e dopo di fatto questo rappresenterà un passo avanti in termini di capacità dell'azienda in termini operativa e sia come patrimonio per la città il nuovo ecocentro invece di via Savio che vi dicevo è una cosa che noi caldeggiamo che il comune voglia iniziare di fatto rappresenterebbe un nuovo hub per 6 per la gestione di rifiuti sul comune e quindi un ecocentro con rampe per la possibilità per la circolazione di mezzi quindi anche con conferimento agevole a parte degli operatori ai container e questo di fatto viene stimato come acquisto e opere civili e contenitori in 700.000 euro questo se viene fatto ovviamente però dovrà essere in qualche modo ristorato nel contratto di servizio però tenete conto che in 10.000 metri quadri si possono anche fare nuove iniziative per esempio impianti di valorizzazione energetica delle frazioni differenziate tutto questo di fatto viene riassunto in in una quadro sinottico di quelle che sono le varie voci che vi ho descritto precedentemente che di fatto rappresentano un impatto positivo netto sulle tariffe GEA applicate ai comuni di almeno 260.000 euro all'anno questa è la proiezione del conto economico dal 2015 al 2030 che vi risparmio proiezione del stato patrimoniale sull'attivo e passivo e flusso di cassa e questa è GEA è un'azienda fatta in persone abbiamo 75 dipendenti che di fatto lavorano tutti i giorni per la città e sono persone in carne e ossa che io ho l'onore di amministrare grazie grazie lei segretario deve intervenire no il sindaco no nessuno va bene passiamo adesso alle richieste di chiarimenti bene e invito i consiglieri a contenere sui 5 minuti massimi tutte le domande tutte le domande che devono proporre prego consigliere ribetti grazie grazie presidente cercherò di stare nei tempi che mi ha chiesto prima domanda leggevo pagina 42 della relazione dovrebbe essere legato 3 alla delibera in ipotesi quindi di affidamento sappiamo che è necessario non solo verificare la sussistenza dei requisiti ordinamentali inerenti al rapporto di affidamento bensì anche dimostrare la sussistenza dei presupposti di convenienza economica rispetto agli altri modelli gestionari allora chiederei se è possibile un'informativa un attimo nel dettaglio di quanto ci viene indicato qua che poi è una richiesta normativa poi per quanto riguarda le modalità volevo capire quando e se si passerà al principio del pay as you throw ma però reale reale non quello che ci dite che farete da tanto però non c'è ancora gli investimenti gli investimenti lei prima ha fatto un'elencazione una carrellata ecco volevo capire che risponde c'è qualcuno mi risponderà c'è qualcuno mi chiede una delibera qualcuno mi risponderà se l'amministrazione è in grado di darmi la risposta se no mi risponderà l'amministratore dice io sto parlando se solito dovrebbe essere in aula se c'è una sua delibera e quindi infatti ma io non mi preoccupo mi hai sentito preoccupato io ho fatto le domande qualcuno dei tuoi che si preoccupava che non rispondesse quindi sono assolutamente tranquillo qualcuno risponderà dai per quanto riguarda gli investimenti volevo capire volevo capire i 600 mila euro se non ho capito male è il costo di acquisto di un terreno che è dietro la sede e volevo capire soprattutto se c'è se avranno un riverbero sulle tariffe le spiego ho ascoltato e ho letto lei faceva riferimento a 100 mila euro se non ho capito male sono i 90 mila annui del costo delle sedi delle tre sedi dite che ce n'è una sola di proprietà che è via Savio io mi domando avete valutato ipotesi alternative magari a costo inferiore magari su altre su altre proprietà comunali che vi possono essere messi a disposizione a prezzo inferiore si è stata fatta una valutazione di questo tipo prima di spendere prima di deliberare poi con riferimento a quanto proprio riguardo agli investimenti quindi in questo caso alla sede se non ho colto male quello che lei ha detto lei ha detto che è stata già deliberata qualcosa a dicembre è stato già appaltato il servizio lavoro forse quel passaggio non l'ho colto bene quindi chiedo scusa e chiedo se può ripetermelo quando si parla di tema di investimenti questa è una cosa che da un po' che sto sollecitando perché ritengo che sia necessaria per quanto riguarda il Nappo Giallo è possibile è previsto un servizio di chiusura o continueremo a avere dei contenitori visto che dobbiamo anche spendere dei soldi non so se per Cordenos per Pordenone tanto sono 3-4 i comuni che servite però ritengo che sia considerando poi che ci sono anche delle sanzioni questo l'ho già detto più di qualche volta all'assessore Conficoni ritengo che sia doveroso per un'amministrazione visto che dietro ci sono loro e evitare al cittadino di essere sanzionato perché se io lascio il Nappo in mezzo alla strada ma non consento al cittadino di chiuderlo è tanto semplice passa uno come succede a me mi trovo dentro il bicchiere rotto il pacchetto di sigarette la bottiglia eccetera poi lei prima ha toccato il tema dell'Uti questa però non è una domanda che è chiaramente più politica adesso faccio 2-3 domande di carattere politico volevo capire come come si concilia questa operazione con l'imminente avvio delle Uti col punto di domanda come si concilia questa operazione anche questo è un punto che ha toccato parlando del lato con la legge regionale del 2011 di cui parlate come si concilia questa operazione sindaco soprattutto nella sua doppia veste di presidente della provincia da una parte e di sindaco della città capoluogo dall'altra abbiamo abbiamo una realtà in provincia molto a dir poco paradossale abbiamo tre società che convivono e abbiamo un insieme di normative da completare in itinere usi lei il termine che vuole che vanno nel senso di una razionalizzazione c'è questa sovrapposizione di ruoli io mi sarei aspettato dal mio sindaco dal mio presidente della provincia che li chiamasse attorno a un tavolo e dicesse cari signori perché non iniziate a dialogare ecco in quest'ottica ci sa dire qualcosa ha pensato qualcosa farà qualcosa poi sull'emendamento se non ho capito male qua c'è la proposta di emendare la delibera con l'eliminazione del punto 16 il punto 16 del deliberato viene soppresso questo è un emendamento che mi è arrivato io ricordo che sulla delibera relativa alla GSM feci presente che a mio modo di vedere era un'ipocrisia che noi diamo atto di qualcosa che deve ancora avvenire si chiedevo se la motivazione era la medesima bene allora almeno una volta l'amministrazione mi ha ascoltato sono molto contento sempre sul piano industriale sull'assunzione dei dipendenti mi sembra di aver letto che saranno tre dipendenti assunti se non ho capito male mi dice se abbiamo già dei ruoli individuati dove sono le carenze organiche che forse ho sentito che c'è un pensionamento se non ho sentito male ecco capire quali sono le figure che andranno ricoperte questo l'ho detto questo l'ho detto ecco per quanto riguarda il verde per quanto riguarda il verde volevo capire se non sbaglio se non ho letto male le carte il verde va in questo momento a tariffa e non a gara giusto? si rifà la tariffa mi sembra di un'associazione asso verde una roba di questo tipo volevo capire è la più conveniente ci sono manovre da fare riguardo al verde per quanto riguarda i dati la prima domanda che ho fatto dove chiedevo appunto un raffronto che era quello della pagina 42 volevo capire meglio sui dati che avete esposto quando l'ha legato se sono comparabili o meno perché mi sembra di aver letto che alcune società che lei mette che vengono messe a raffronto all'interno di questa illustrazione forniscono dei servizi diversi e ulteriori rispetto al servizio di semplice raccolta che viene fatto magari da GEA allora volevo capire quanto incide il costo dello smaltimento sul costo totale del servizio il costo della raccolta è paragonabile se effettuato in una città o in un territorio diciamo fatto di strade abbastanza lineari e dico è raffrontabile con quello che viene fatto in montagna cioè il costo della raccolta chilometrico per Pordenone è il medesimo costo della raccolta chilometrica che può avere il comune di Crauzetto cioè sono dati quelli che ci ponete qui raffrontabili questo volevo chiedere da ultimo ultima domanda che si ritrae un'altra domanda che ho già fatto tempo fa parlando della GSM e continua sulle partecipate del comune di Pordenone io trovo sempre sempre lo stesso nome sindaco cioè lei non me ne voglia perché non è solo colpa sua però quando ci sono atti e convenzioni da fare gira e rigira il nome che viene fuori è sempre lo stesso allora qui abbiamo che in data leggo la relazione ha legato 3 a pagina 5 in data 22-12 allora noi praticamente nel 2007 per chi non se ne fosse accorto è stata poi l'ultimo del serie di proroghe fino al 2017 10 anni di servizio quindi scade fra due anni ma questa è la parte politica dell'intervento che farò dopo in data 22-12-2008 sono stati sottoscritti i contratti di servizio presso il notaio Gaspare Gerardi pagina 5 pagina 7 nell'ottica di prevenire una sinergia di gestione di servizi incidenti sulla tutela del contesto ambientale del fribrio comunico Pordenone con contratto di servizio atto numero del 6 dicembre 2010 del notaio Gaspare Gerardi allora io non ho niente contro il notaio Gerardi che è una persona amabilissima ma io mi chiedo abbiamo qualche altro notaio Pordenone c'è il segretario comunale che può fare qualcosa è una scelta dell'amministrazione indicare solo ed esclusivamente un solo notaio nell'ottica della turnazione sindaco che lei ci ha sempre più volte ricordato perché noi siamo un'amministrazione pubblica non siamo legati a nessuno dobbiamo far lavorare tutti e quindi facciamo lavorare il notaio Gerardi mi fa piacere per il notaio Gerardi mi chiedo se ci sia qualche altro notaio che potrà avere in futuro l'onore di servire il proprio comune oppure se la scelta visto che devono anche loro stipularle probabilmente in house dal mass e anche dal mass a fare anche lo spiritoso oppure se la scelta è una scelta dell'amministrazione della società partecipata per il momento ho terminato le mie domande consigliere Piccin prego grazie presidente ma io alcune domande non forse come le avrei poste io ma credo le abbia anticipato il collega Ribetti però io voglio invece anticipare una considerazione alla quale poi farà seguito una domanda che fa riferimento a ciò che è stato detto prima ovvero durante l'illustrazione si è parlato di normativa in evoluzione legge regionali che dovrebbero in qualche modo essere approvate dal consiglio allora mi chiedo siccome e chiedo a chi vorrà dare una risposta se vorrà e chiedo perché in un momento di evoluzione normativa come questa in un momento leggo la stampa di nascita di polo provinciale per la raccolta dei rifiuti e noi non vado a discutere tanto quella che è l'operazione che andiamo a fare ma lo facciamo con un anno e mezzo due anni di anticipo rispetto alla scadenza e quindi da questo punto di vista al di là del nome che ho colto prima essere un problema mi sembra di capire vorrei capire invece il ragionamento perché qui è vero che facciamo amministrazione e ci occupiamo di questioni tecniche ma è altrettanto vero che questo a mio modo di vedere è il nodo politico almeno per me più importante e quindi vorrei che fosse data una risposta in relazione a l'evoluzione normativa e anche alla nuova architettura istituzionale che viene data al nostro territorio attraverso le UTI se mai verrà data ma mi pare di comprendere che oramai la strada dovrebbe essere in discesa almeno secondo l'assessore Panontini la seconda domanda invece fa riferimento agli investimenti e volevo fare una riflessione a una domanda contemporanea cioè qui ci sono 2 milioni e 4 da una parte e altri 700 mila dall'altra sul discorso del nuovo ecocentro e per come ho potuto comprendere rispetto alle spiegazioni se ben ho capito i 700 mila euro almeno questi avranno una ricaduta effettiva di costi per i nostri cittadini questi sì almeno così diceva il dottor Mariotto non ha utilizzato la parola cittadini ma però insomma io ho compreso questo allora mi chiedo se in un tale momento e apprendo oggi ma questa è una carenza mia perché l'amministrazione manda sempre l'ordine del giorno delle delibere apprendo che c'è già un progetto che è stato approvato che è già stata fatta la gara e che quindi si sta andando avanti però chiedo se viene ritenuta come dire congrua una scelta di una spesa di questo genere cioè 2 milioni e 4 e se veramente si intende procedere con gli ulteriori 700 mila euro perché secondo me questi non sono i tempi per fare questo tipo di operazioni tanto più che ho compreso bene il discorso che è stato detto relativamente agli affitti che si pagano da molti anni mi sembra no dottor Mariotto e allora se si pagano da molti anni sarebbe dovuto a mio modo di vedere essere una priorità di questa azienda cercare di abbattere i costi ed uscire da questa situazione anche attraverso la valutazione e qui è stato detto non appare e non è opportuno o non è possibile fare anche attraverso altri tipi di valutazioni è stato detto non acquisto di strutture di tipo privato secondo me questo è un errore proprio in relazione al fatto che i costi dei cappannoni dismessi per la verità in questi anni di crisi industriale a mio modo di vedere sarebbe stato sicuramente maggiormente vantaggioso cercando bene e valutando ovviamente tutto rispetto a quella che è la scelta che ha fatto l'amministrazione grazie grazie consigliere consigliere Piccinato prego grazie presidente allora io volevo appunto chiedere un chiarimento riguardante al costo degli affitti a chi paghiamo attualmente questi 100 mila euro 90 ai rotti così dopo mi risponde nel dettaglio perché è chiaro che sì qui c'è un ragionamento interessante da poter fare poi in seconda battuta scusate ma un po' di influenza mi risponderanno insomma no no attualmente dico in futuro va bene poi beh quantomeno insomma poi se appunto scusatemi se l'investimento per quanto riguarda l'acquisto del treno per la nuova struttura eccetera può essere sicuramente interessante per quanto riguarda un'azienda privata che sicuramente dal calcolo fatto ha un suo senso logico e anzi ha fatto un plauso a questa iniziativa forse tardiva ma comunque che può essere interessante e ha la sua sicuramente utilità ma diciamo ma in quanti anni verrebbe ammortizzato il totale e in tutti questi anni c'è la copertura sicuramente politica e comunque di di attività sicura per cui l'azienda che comunque è partecipata riuscirà in ogni caso a lavorare e quindi a pagare oppure interverranno delle modifiche che rischiano di farci pagare alla fine come cittadinanza di più di quello che stiamo pagando oggi perché se poi caso vuole che venga razionalizzato il tutto si perda venga perso il discorso dell'azienda partecipata perché lo chiede l'Unione Europea perché c'è l'invasione dei marziani o qualsiasi altra cosa a quel punto diventa una spesa che non è più giustificata rispetto a quello che è un servizio e chiedo delle delucidazioni in merito a questo perché mi sembra un punto assolutamente interessante e poi la terza scusatemi la terza e ultima domanda perché io fatico forse a capire ma lo chiedo per avere un chiarimento ulteriore perché ne avevamo già discusso e avevo già dato a suo tempo il parere riguardo all'investimento sull'ecocentro mi chiarite un attimo a cosa serve di preciso questo nuovo investimento in questo senso perché ancora non mi è chiaro grazie grazie consigliere consigliere Manfrin sì grazie presidente io volevo capire un po' e chiedere all'assessore Conficoni se c'è e se sì qual è l'interazione tra questa progettualità ben delineata e i servizi sociali perché a noi del fiume ci sembra importante che appunto questa interazione soprattutto tra questi due assessorati possa rilevarsi fondamentale essere fondamentale per dare delle risposte concrete e importanti ai cittadini in difficoltà grazie grazie consigliere consigliere Sperotto prego sì grazie presidente volevo un chiarimento su questo aspetto perché sia nell'illustrazione appunto del piano industriale si fa riferimento a una delle innovazioni più importanti riguarderà la gestione del verde che in particolare si estenderà non solo alla gestione del verde comunale ma leggendo ovviamente anche il deliberato si amplierà molto nel senso leggo la delibera nell'ambito delle innovazioni si fondano in particolare sulla riconfigurazione dei servizi salvaguardi di cura del verde pubblico intesi come comprensivi dell'attività di programmazione e di organizzazione della fruibilità dei parchi e degli spazi verdi nonché di gestione attiva degli stessi spazi in particolare dei grandi parchi San Valentino Galvani e la prima domanda è ovviamente credo anche il parco del seminario visto che comunque in questo momento è un'area che sta gestendo in capo al comune di Pordenone anche se non nella proprietà quindi leggendo questa delibera ci sarà in capo AGEA ci sarà ovviamente uno sviluppo una programmazione degli spazi cioè cosa si fa in quegli spazi verdi come lo gestiamo quali sono le attività che ci vado a fare quindi anche una programmazione di questo tipo chiedo sia all'amministrazione sia all'assessore che all'amministratore e mi chiedo appunto che mi sembra che visto siccome a GSM è stato affidato il compito anche di studiare lo sviluppo la problematica del traffico così in questo momento affidiamo AGEA sviluppare dei progetti sui parchi urbani mi sto sbagliando e questa è proprio una parte del fattore innovativo il contenuto di questa delibera questa è la prima domanda il primo quesito il secondo quesito è siccome il verde di questa città non è un verde comune ne sento non è comune che una città abbia così tanto verde e dei fattori penso veramente unici nel nostro patrimonio nazionale cioè abbiamo un'area verde importantissima praticamente in centro città che è il parco del seminario con dei risvolti positivi incredibili sia sotto profilo della fauna selvatica della biodiversità per quanto riguarda appunto la vegetazione arborea mi chiedo appunto le risorse quindi quale possa essere il personale in capo AGEA che abbia appunto la capacità spero immagino che ci sia di gestire e di organizzare la fruibilità di questi importantissimi spazi ancora ritengo in qualche modo non valorizzati al massimo in questo momento questo è il mio la mia richiesta di chiarimento grazie consigliere consigliere del ben prego grazie alcune questioni terminologiche se non ricordo male se non ho visto male ad un certo punto il segretario comunale ha fatto passare un'immagine in cui si parlava delle salme nei cimiteri la gestione delle salme allora voglio solo ricordare che dal 21 ottobre 2011 legge regionale numero 12 in Friuli la salme è il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento della morte io mi auguro che le le nostre attività cimiteriali siano fatte su qualcosa nel quale la morte sia già stata accertata no allora è un po' di una correttezza terminologica considerando che legge regionale del Friuli che parla di regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale chiamiamo le cose con il loro nome cioè per dire cadavere resto mortale ma non certamente salme ma questo è quasi come un inciso per dire della correttezza dopodiché se noi passiamo vicino i laghetti di Rorai vediamo che è scritto area di sgambatura per i cani tutto sommato un termine che ci consente di utilizzare gli stessi segnali che ci sono e lasciamo la sgambettatura ad esperienze di altre parti d'Italia e usiamo il termine sgambatura perché per noi è quello già utilizzato voglio rompere no finisco qua no no perché prima parlava della sgambettatura a Pordenò altre parti d'Italia no no per esempio Vicenza è un posto dove ci sono gli spazi della sgambettatura di cani in Toscana e altrove è della sgambatura come era un termine usato anche da noi quindi per dire se prendiamo mano ai nostri regolamenti manteniamo perché siamo in friuli non in friuli siamo in friuli le nostre parole ma questo era solo a livello di scusami comunque da noi sgambatura perfetto no invece c'è un argomento che mi interessa molto allora Pordenone fa e va riconosciuto una alta percentuale di raccolta differenziata e questo ragionevolmente dovrebbe essere una anticipazione per il fatto che il recupero e il riciclo dovrebbe essere alto quello che è fatto in modo che alla eliminazione di rifiuti vada la minor parte possibile di ciò che viene prodotto perché lo smaltimento diventa uno degli elementi importanti per la tutela della salute ora visto che stiamo parlando di un investimento di alcuni anni volevo conoscere per il piacere se possibile quale sia oggi l'impatto dello smaltimento dei rifiuti di Pordenone nei confronti della salute e cosa si faccia nei prossimi 13 anni perché l'impatto della salute sulla salute in generitori se volete sia meno importante di quello che è oggi spero di aver dato il senso cioè noi abbiamo i rifiuti e oggi alla fine ne smaltiamo una parte c'è una progettualità che ci consente di smaltire meno ma anche quello che si smaltisce con meno impatto sulla salute perché forse quando si si produce si fa questa progettualità è vero alla fine mi aspettavo che questo 6 per 13 persone messe sulla slide finale ovviamente di persone per bene mi aspettavo che fosse esplicitato ma forse c'è non l'ho visto io un impegno dell'azienda per garantire a quelle persone condizioni di salute quindi mi aspettavo anche come obiettivo quello di infortuni a zero perché è un'attività particolarmente pericolosa e mi aspettavo per queste persone anche la prospettiva di un malattia professionale zero perché per il tipo di lavoro che fanno è giusto che ci sia questo investimento per la salute anche di queste persone erano solo elementi propositivi senza nessuna volontà ovviamente critica perché da quello che vedo e conosco la società GEA eroga servizi con persone qualificate con attenzione all'ambiente eccetera però da come sono fatto c'è sempre un impegno a fare meglio volevo sentirmi dire qual è questo meglio che si vuole fare grazie consigliere prego chi inizia dottor Mariotto inizia a rispondere a lei rispetto rispetto a bevare i nori intanto me ne sono segnate rispetto alla valutazione di benchmark del mercato quindi alla valutazione economica dei servizi come abbiamo proceduto vi vi avevo detto precedentemente che la difficoltà di confronti rispetto alle società che operano in campo di rifiuti è legata è legata a quella che è la natura delle società nel senso che ci sono società che hanno semplicemente la raccolta società che hanno la raccolta e gli impianti società che hanno solo impianti non hanno raccolta società che non hanno nulla ma hanno in appalto sia la raccolta che gli impianti quindi da questo punto di vista è difficile dire come scegliere società analoghe quello che è di fatto il principio che ci ha ispirato è come queste società ribaltano il costo dei cittadini quindi il costo di confronto che è stato fatto in piano industriale non riguarda tanto i performance le performance aziendali a livello di come dire di indicatori di bilancio delle società ma come si riverberano sui tariffe applicate quindi quando abbiamo detto che GEA è competitiva sul mercato perché di fatto si compara ad altre società abbiamo detto abbiamo comparato società come Trieste Gorizia Udine se vogliamo possiamo andare a Treviso Conegliano città di dimensioni analoghe a Pordenone e per quanto riguarda i comuni società locali più piccole che hanno performance economiche migliori di quelle di Pordenone abbiamo visto che comunque l'azienda su questi comuni di queste dimensioni è altrettanto competitiva come vi dicevo se la media di GEA a livello complessivo è di 120 euro abitante se io vado a togliere Pordenone da questa media vado a meno di 100 euro abitante quindi questo di fatto va a dimostrare la competitività quindi non è che la differente natura delle società sia elemento tale a non permettere un confronto perché comunque quello che si è preso come cartina attorno al sole dell'efficienza è il costo ribaltato al cittadino utilizzando quelli che sono dati oggettivamente comparabili che è l'Atari perché l'Atari all'interno di un comune copre tutti i costi del ciclo dei rifiuti per quanto riguarda il discorso del pay as you throw quindi la tariffa puntuale il tema è abbastanza complesso vi dico solo una cosa attualmente io anche io personalmente sono presidente della commissione Utilitalia per la tariffa puntuale ho partecipato il 4 dicembre a un'audizione del ministero ambiente con Utilitalia ANCI e FISE a suo ambiente in cui il ministero ha presentato il decreto per la definizione dei criteri per l'applicazione di tariffa puntuale quindi siamo ancora in attesa di evoluzioni normative non vi nascondo che il decreto che darà i criteri per l'applicazione di tariffa puntuale sarà un dato molto importante e qui si dovrà tenere conto per l'applicazione poi futura perché attualmente c'è il rischio di andare a fare una impostare questo tipo di tariffazione su criteri che poi magari il ministero andrà a sconvolgere in tempo breve la bozza di decreto è stata prodotta al ministero è stata consegnata in serie di discussione appunto a situazioni di categoria quindi e a lanci e quindi ci aspettiamo a breve che arrivi questo elemento che poi permetterà anche al comune perché di fatto su questo noi siamo un braccio operativo a servizio del comune di fare valutazioni in merito a questo per quanto riguarda la nuova sede se permetto anche di mettere assieme più commenti anche da parte degli altri consiglieri credo sia utile perdonatemi se non è di qualità ottima però alla fine rende abbastanza l'idea allora questo è la rispetto al valore della sede per come è stata aggiudicata quindi 2 milioni e 40 mila abbiamo una quota di ammortamento di impianti che si vengono ammortizzati in 10 anni e una quota di ammortamento opera civile in 30 anni e questi sono gli interessi del finanziamento FRIE ok questo è l'impatto sul conto economico e positivo l'affitto evitato quindi di fatto l'impatto sul conto economico già nel primo anno è 25 mila euro su 10 milioni fatturato di fatto nullo se vedete noi andremo ad azzerare quindi ammortizzare la spesa nel 2030 e dopo avremo un risparmio che è legato al fatto io comunque ogni anno pago 100 mila euro andare a dare un valore economico positivo e netto all'azienda io credo che qualunque buon padre famiglia rispetto a una valutazione di questo tipo di conti non avrebbe non farebbe altro che dire andiamo avanti in questa direzione ed è questo che ho fatto quando sono arrivato qua poi per carità quello che è stato fatto in precedenza io non entro in merito però anche per rispondere a quelle che sono state le considerazioni del consigliere dal ben che poi andrò a analizzare questo era anche un modo per dare risposta all'esigenza dei lavoratori e anche per dare un risparmio alla società dal punto di vista degli affitti voglio dire forse voi non 30 anni 15 anni però l'impatto economico positivo se vedete viene già a partire al 2027 quindi da qua 10 anni di fatto in 10 anni l'ammortamento si ripaga e di fatto poi dà un flusso di cassa positivo all'azienda e comunque come vedete l'impatto economico è assolutamente insignificante non ha nessun elemento di riverbero sulle tariffe di Pordenone mi sembra evidente perché stiamo parlando di 25 mila euro su 10 milioni di fatturato e su una tariffa di Pordenone che è di 7 milioni di euro all'anno per quanto riguarda invece l'aspetto degli affitti voglio dire che noi come società pubblica completamente pubblica 100% e quindi anche meritevole affidamenti in house siamo sottoposti comunque da sempre a quelli che sono gli obblighi in termini di amministrazione trasparente e di rispetto del decreto anticorruzione del 2013 quindi noi abbiamo sul sito GEA una 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 sezione di amministrazione trasparente in cui ci sono tutto un elemento di informazioni tra cui anche quindi tra tutto quello che è obbligo rispetto anche che già rispetta il comune e se vedete c'è anche una voce questo è il sito di GEA quindi sono online tutti possono andare a vederlo c'è anche un sito che parla di canoni di locazione versata quindi purtroppo so che sarebbe una cosa di privacy però noi questo qua sono già sul sito quindi noi già diciamo quanto paghiamo chi è non diciamo il nome del proprietario però diciamo è già evidenziato anche addirittura dov'è il catasto e la particella quindi potete anche tranquillamente sapere con una visura chi è il proprietario dell'area comunque queste sono le cifre di affitto che noi paghiamo ad oggi più o meno qualche euro in meno di 100.000 euro allora sono tutti i cittadini privati tranne questo che è una società partecipata del comune di Polrenone via Fornace 8 l'acquedotto per quanto riguarda il discorso invece della chiusura dei contenitori allora questa è una scelta che diciamo che non ci siamo inventata noi difficilmente in altri io non ho esperienza e vi dico che ho fatto il consulente per più di 10 anni in giro per l'Italia non ho esperienza e conoscenza di servizi porta a porta che abbiano una chiusura con chiave del contenitore dedicato personalizzato perché il contenitore dedicato personalizzato viene esposto solo per la raccolta il fatto che possa essere utilizzato in maniera impropria da altri ovviamente è una cosa che sta nella natura dell'uomo e degli accadimenti non si può escludere vero è che noi come anche non abbiamo mai sanzionato rispetto a questa fattispecie nel senso che noi sanzioniamo per abbandoni di rifiuti sanzioniamo per quando troviamo i cassoletti condominali sacchetti riconducibili a persone del condominio che non hanno fatto la differenziata ma non abbiamo mai fatto multe per l'esposizione di questo tipo anche a meno che l'utente a fronte di una contestazione non ammetta di aver sbagliato quindi di fatto l'onere della prova sta sempre al controllore sta sempre a noi quindi di fatto da questo punto di vista mi sento di assicurare che non non c'è non ci sono mai stati casi di persone che abbiano tra virgolette contestato o si siano appellati al fatto che altri abbiano diciamo che altri abbiano approfittato il proprio Napo per quanto riguarda invece il discorso dell'Uti e qui lascio la parola ad altre al segretario per quanto riguarda il discorso di montagna e pianura allora io non sono dati i miei oggettivamente anche in montagna comuni più piccoli costano meno delle città questo è un dato oggettivo e forse è un po' come dire va contro quelle che sono magari la prima impressione che si può avere però questo è un dato oggettivamente che si trova in tutta Italia cioè i comuni più grandi costano di più gestire i rifiuti a Roma costa molto più che gestire i rifiuti in una città media e gestire i rifiuti in una città a 50.000 abitanti costa di più in proporzione che in un comune da 15.000 o un comune ancora più piccolo a meno che a meno che non ci siano comuni montani di particolare per esempio immagino Sestriere o immagino Cortina ma non siamo sicuramente parlando di Tramonti e Erto e Casso perché di fatto neanche i Barcis insomma e quindi mi sembra di aver risposto ecco dal punto di vista discorso del parchi allora io lascerei comunque una parte risposta all'assessore però vi dico solo che dal punto di vista di valorizzazione cosa si intende quando parliamo di valorizzazione del verde noi come GEA questo l'abbiamo detto anche sulla stampa più volte ed è anche stato pubblicato su un altro sito stiamo affrontando un lavoro molto importante di georeferenzazione di tutto il patrimonio verde del comune quindi metteremo su un database che verrà reso anche disponibile agli utenti in rete quello che è il patrimonio verde del comune questo permetterà di avere oltre a una conoscenza maggiore di tutto quello che è il patrimonio verde anche di permetterne una valorizzazione dal punto di vista naturalistico GEA già in questo momento ha convenzioni attività con associazioni per esempio penso alla gestione della bassura del parco Reghena oppure alla valorizzazione che abbiamo fatto con l'associazione diversamente per la conoscenza del patrimonio biologico del comune con l'utilizzo di chiavi dicotomiche per il riconoscimento delle piante specie arboree che sono sul sito dell'Università di Trieste e anche sul comune di Pordenone grazie a una collaborazione dell'associazione di Pordenone con l'aiuto di GEA stiamo lavorando con gli orti sociali e dal punto di vista anche andare a una maggiore integrazione del patrimonio verde con l'associazione col tessuto sociale del comune di Pordenone sicuramente è importante perché il patrimonio verde del comune di Pordenone è un qualcosa che tra virgolette è una componente essenziale a qualità della vita urbana e quindi noi riteniamo che una gestione attenta del patrimonio e valorizzazione in questo senso possa dare un elemento di forza alla città e per quanto riguarda invece l'aspetto della salute degli operai in questi anni GEA ha investito molto su questo tema ci siamo certificati OHS ISO OHS 18.001 stiamo investendo decine e migliaia di euro in formazione e corsi in DPI ai lavoratori abbiamo assunto una persona un ingegnere che si occupa solo esclusivamente di gestione del sistema ambientale e la sicurezza perché eravamo consapevoli che eravamo in ritardo su questo e quindi questo è un tema su cui noi siamo impegnati perché di fatto la risorsa la ricchezza dell'azienda sono le risorse umane quindi da questo punto di vista devono essere di fatto salvaguardate per quanto sono positive perché da altra parte dobbiamo essere anche rigorosi esigenti nel rispetto delle regole quindi anche da questo punto di vista se qualcuno non si comporta in maniera corretta rispondente al contratto non ci siamo mai tirati indietro rispetto anche a provvedimenti disciplinari anche importanti ecco io mi fermerei qua vedo vedo di riuscire a essere veloce allora per quanto attiene il quadro regionale anche nella legge di stabilità regionale è stato già detto qualcosa è stato confermato il modello transitorio ve lo faccio leggere questa è la legge di stabilità la 33 in attuazione quanto ho previsto l'articolo 3bis eccetera sostanzialmente è sulla base della deliberazione degli enti locali interessati da perfezionare entro il 31 dicembre 2016 in caso di forma di cooperazione fra enti locali per la gestione diretta o in house dei rifiuti e il recupero eccetera che viene confermato anche successivamente dal 31 dicembre risulta articolato nelle aree attuali quindi la regione in questo momento dice siete organizzati in tre siete organizzati in due questo è ecco le uti allora le uti diciamo che oggi come sono delineate a regime dovrebbero prendere in gestione il sistema dei servizi pubblici locali io direi che aspettiamo che si consolidi la normativa che si non Buonasera a tutti. Intanto un ringraziamento in particolare al dottor Mariotto per la collaborazione prestata in questi anni e anche per l'intervento di questa sera che ha dimostrato come GEA sia una società non solo sana ma anche ben amministrata e permettetemi di dire anche in quest'aula non occupata dalla politica. E' una società che è stata fatta e che mi ha veramente infastidito perché possiamo riconoscere al sindaco Pedrotti veramente il merito di aver scelto delle persone che non fanno riferimento ai partiti per gestire una realtà aziendale che come ha dimostrato il dottor Mariotto per i risultati che ha snocciolato è una società che rappresenta un valore raggiunto per la comunità anche perché ha promosso in positivo in tutta Italia l'immagine di Pordenone in positivo sia per il primato nella raccolta differenziata che per l'organizzazione della donata nazionale degli alpini. E gli sono grato per questo anche perché mi ha dato la possibilità di ritirare personalmente anche dei prestigiosi riconoscimenti per tutti i cittadini di Pordenone. Detto questo è ribadito che si tratta di un patrimonio da salvaguardare non certamente di un giocattolo costoso da liquidare mandando a casa le decine di persone che rappresentano un patrimonio di competenze di professionalità importante da valorizzare. la delibera di questa sera che non è certamente un blitz ma che è figlia di un percorso cominciato parecchi mesi fa porta comunque dei benefici a breve termine per la nostra comunità perché consente di rispermiare sia nella gestione del verde dei rifiuti sulla riscorsione della tariffa sia nella gestione del verde per la semplificazione che deriva dal fatto di porre in capo la società partecipata tutto il servizio che oggi è a cavallo con l'amministrazione comunale. Voglio ribadire che non solo per quel che riguarda la gestione del servizio dei rifiuti quest'anno la società ha secondato alla nostra richiesta in questi anni di ridurre il costo di gestione del servizio perché nel 2008 spendevamo sui rifiuti circa 7 milioni 400 mila euro l'anno e il preventivo di quest'anno sarà di poco superiore ai 6 milioni 800 mila euro ma che questo processo di razionalizzazione della spesa ha interessato anche il verde pubblico per rispondere a una domanda che è stata fatta non ricordo da quale consigliere. Complessivamente rispetto al 2011 che è stato l'anno in cui abbiamo speso di più 2 milioni 237 mila euro l'anno scorso abbiamo chiuso con 1 milione 600 e rotti mila euro di spesa quindi 600 mila euro in meno circa il 30% in meno e GEA ha contribuito con una riduzione del contratto di servizio di circa 300 mila euro. Quindi sono numeri importanti che dimostrano credo anche come l'operato di questa amministrazione non vada giudicato sulla base dei canoni tradizionali che abbiamo utilizzato per valutare le amministrazioni che hanno operato in passato comprese quelle di cui io stesso sono orgoglioso di aver fatto parte, realizzazione di opere, cose visibili per i cittadini e soddisfazioni da parte di tutti ma per un lavoro spesso oscuro e anche faticoso che però ci ha consentito di mantenere in essere dei servizi ad un livello qualitativo veramente elevato. E il servizio del verde pubblico è sicuramente anch'esso un vanto per la nostra città ed è molto apprezzato perché verde significa aggregazione, socializzazione, divertimento, penso tutti i giochi che recentemente abbiamo installato. Verde per venire alla sua sollecitazione, consigliere Manfrin, significa anche inclusione sociale come abbiamo dimostrato con l'operato in particolare di questi ultimi mesi quando abbiamo coinvolto nella gestione di questo servizio non solo i soggetti disagiati che ci vengono segnalati dai servizi sociali e che presidiano i tre più importanti parchi della città il parco San Valentino dove fanno anche gli sfalci oltre alla pulizia dei cestini il parco Galvani e il parco Cimolai costituendo tre squadre operative che poi due volte alla settimana fanno il giro delle aree verdi diciamo più prossime a questi tre parchi principali garantendo un livello di pulizia e di manutenzione assolutamente adeguato ma anche coinvolgendo i disoccupati, penso il progetto finanziato dalla regione dei cantieri lavoro ci sono dieci persone che fanno manutenzioni straordinarie del verde del reticolo idrografico minore e che ci consentono di fare sostanzialmente senza oneri per l'amministrazione degli interventi di manutenzione straordinaria che nel corso degli anni non era stato possibile fare perché costosi e perché non inseriti nel contratto di gestione del servizio e recentemente grazie anche all'impegno del sindaco e dell'assessorato del settore dei servizi sociali abbiamo incluso anche i profughi nella gestione del verde si sono impegnati in particolare nella manutenzione delle staccionate, delle panchine hanno dato l'impregnante, è stato veramente un percorso fecondo, proficuo anche di integrazione per loro ecco io credo che tutto questo patrimonio che abbiamo consolidato nel corso di questi anni e degli ultimi mesi certamente non vada disperso in questo momento di evoluzione e di trasformazione del servizio e l'indicazione che abbiamo già dato a GEA i nostri servizi sociali è certamente quella di collaborare affinché questo nucleo di persone che opera proficuamente per il comune possa continuare ad operare coordinato dalla nostra società partecipata e questo è un aspetto fondamentale del servizio del verde che veramente la ringrazio per il quesito perché mi ha dato la possibilità di sottolineare questa sera certamente per venire anche a una sollecitazione che ha fatto il consigliere del BENGEA non si è impegnata in questi anni solo ad assecondare le sollecitazioni del comune per quel che riguarda la riduzione dei costi ma sicuramente anche per il miglioramento del servizio la riduzione dei rifiuti prodotti e anche il miglioramento della qualità della raccolta differenziata e l'operazione di realizzazione di un nuovo ecocentro è anche legata alla possibilità di un ampliamento e di attivazione eventualmente in collaborazione con i comuni con termini di un centro per riuso oggi questa possibilità ci è preclusa perché lo spazio offerto dall'ecocentro di Via Nuova di Corva è troppo angusto e non abbiamo avuto la possibilità di presentare una domanda di contributo all'amministrazione regionale che finalmente ha deciso di finanziare questo tipo di progetti proprio perché c'era un deficit strutturale che non eravamo in grado di superare perché la legge finanzia solo nuove realizzazioni e non affitti e quindi non abbiamo potuto presentare domanda per questo motivo nonostante fossimo molto interessati a questo tipo di evoluzione del servizio i margini invece di riduzione del rifiuto seco residuo penso che anche se sono minimi perché già sono meno di 5.000 le tonnellate di seco residuo che conferiamo in discarico all'incenerimento all'impianto di selezione sono già veramente ridotte all'osso ma quest'anno intendiamo lavorare in particolare con le grandi utenze caserme ed ospedale civile con cui abbiamo fatto un incontro nelle scorse settimane per cercare di implementare la raccolta differenziata in corsia come già avviene al Policlinico San Giorgio perché le grandi utenze possono darci soddisfazione e uno step in più potrà essere fatto in occasione dell'introduzione della tariffa puntuale e l'adeguamento del servizio nelle diverse zone della città in funzione del risparmio oggi viene fatto consegnando agli utenti nuovi bidoni dotati di trasponder che ci consentiranno o consentiranno alla prossima amministrazione di fare più agevolmente questo passaggio che comunque riteniamo sia un passaggio importante perché io ho apprezzato che nella sua relazione il dottor Mariotto prima di snocciolare i dati economici abbia indicato quelli che sono i risultati per l'ambiente perché questa è la nostra priorità grazie quanto tempo ho? no io mi sento beh dipende sai allora allora io credo di essere in dovere di fare qualche passaggio politico su almeno due titoli diciamo quello delle uti anche se in parte il segretario anticipato delle osservazioni pratiche ma aggiungiamone magari di qualcuna di dimensione politica e quello della tre sono i punti della provincia armonizzazione diciamo delle società che si occupano dei rifiuti all'interno della nostra provincia ed infine nuova legge regionale o i gossip se sono cinque anche ma certo allora alla fine la parte iniziale sarà sempre valida anche per quest'ultima domanda iterata allora sul fatto che le uti possono nel frattempo il comune all'interno delle uti possono nel frattempo continuare con questa norma transitoria dal punto di vista di quello che hanno è sfortunatamente stato fissato nella legge di attuazione delle uti io ero del partito che proprio per evitare che si fondassero delle uti sulle immondizie il fatto di stabilire bene che all'interno delle uti erano le uti a stabilire le regole di affidamento e l'evoluzione degli affidamenti perché voi capite che ci sono dei contratti in essere che non è che istantaneamente possono essere annullati sarebbe stato più che augurabile perché perché sembra logico che all'interno di questo bacino di comuni che sono alla fine contigui per abitudini per caratteristiche eccetera anche gli aspetti proprio di servizi di questo tipo ambientali ed ecologici debbano essere portati agli stessi standard alle stesse abitudini agli stessi modi di essere eseguiti questo non è ne prendiamo atto ma questo non vuol dire che proprio per in questo momento così strano di definizione di queste cose ed è un po' la risposta politica che vi do perché adesso e non fra due anni a parte diciamo gli obblighi che abbiamo chiarito di tipo normativo ma parliamo proprio di una decisione di tipo politico io ritengo di essere tra quelli che a fronte di una società che si dimostra con queste caratteristiche con questi contenuti economici farò di tutto anche nel breve nel breve tempo che mi rimane come sindaco come questo mandato per fare sì che questa società si consolidi e nei confronti degli altri competitori che abbiamo nella nostra provincia possa in qualsiasi momento di confronto e di passi successivi essere assolutamente alla pari da un punto di vista economico da un punto di vista dei bilanci da un punto di vista della trasparenza da un punto di vista della qualità dei servizi che vengono offerti quindi visto che l'occasione era quella di comunque pensare ad una redefinizione l'abbiamo detto per questioni normative ma non solo proprio di contenuti della parte del verde si è anche pensato che fosse il caso di dare questa prospettiva solida dal punto di vista del portafoglio alla società rilanciando sui fronti sia del verde che dei rifiuti per quanto riguarda diciamo le prospettive provinciali che noi abbiamo la battuta è scontata allora noi siamo in ritardo di sei anni cinque più uno cinque precedenti e il mio parlo di provincia perché ricordo benissimo ma credo che sia che sia no ma per visto che era stata una domanda ricordo personalmente i tentativi che con Alessandro Ciliani avevamo cercato di fare proprio come Comune di Pordenone e provincia per avviare un'attività di effettivo come si dice insomma valutazione e invito le due società ma basati su numeri reali che cominciassero un dialogo serio per vederne future opportunità questo per vari motivi più o meno resistente ma insomma alla fine non è accaduto ed è chiaro che adesso diventa un problema che sarà anche forzato probabilmente dalla nuova regia regionale sì approfitto anche di quello che scrivevano i giornali che è stato proclamato l'esistenza di un polo provinciale per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti ne prendiamo atto anche se mi sembra che nella comunità montana che abbia vinto l'appalto sia ai meri cioè un altro che poi utilizzi degli impianti locali va bene però è un altro che è arrivato ed un altro che avremo l'obbligo in qualche modo poi di cercare di integrare nei cicli temporali che avremo nella risoluzione dei vari contratti bene ci siamo creati diciamo ci siamo dati un compito in più dal punto di vista delle fusioni delle iniziative future quindi quello che voglio dirvi è che adesso sperando che quindi questa sera la delibera venga approvata i passi successivi sono fidelmente di cominciare a discutere quindi a livello provinciale di aprirlo questo dibattito perché saremo la pari uno due la cosa che però io metterò come prerequisito è che diciamo da un punto di vista della modalità con cui le operazioni sia di tipo pratico quelli di tutti i giorni insomma sia di tipo finanziario sia la pubblicazione dell'informazione sia le abitudini per quanto riguarda i temi della trasparenza nelle società che verranno chiamate obbligatoriamente come provincia a discutere siano esattamente tutte allo stesso livello e che quindi la certificazione dei bilanci gli aspetti di trasparenza e che giudico estremamente importanti siano effettivamente da un punto di vista qualitativo tali da essere effettivamente confrontabili perché credo che condividiamo il fatto che se cominciamo a parlare di fusione tra società alla fine i dati economici di partenza siano essenziali per capire nei vari posizionamenti futuri chi andrà ad essere in una posizione migliore che altri ecco io credo comunque che lo sforzo che è stato fatto è quindi di miglioramento del posizionamento della società e della sua capacità di essere competitiva in generale e che sia qualche cosa che poi dal punto di vista pratico andiamo a consegnare a chiunque verrà successivamente in un buono stato di forma che consentirà poi di prendere qualsiasi tipo di decisione ma non certo con le pezze ai pantaloni ma in una posizione sicuramente più interessante grazie bene sembra sia stato risposto a tutto queste sono ancora richieste i chiarimenti ma devo dare io dovete cancellarvi dico io quando si apre il discorso prego consiglio è piccinato grazie alla luce dell'immagine con i canoni di affitto anzi del raffronto praticamente della spesa di acquisto della struttura e i canoni di affitto se poteva alla luce delle nuove informazioni se poteva rimandarle un attimo che c'era un'informazione interessante sì no l'ammortizzazione sì sì l'ammortamento scusami sono in difficoltà con la voce permettetemi mi permetto di prendere la nota grazie prego consigliere è sfuggita forse una risposta che era quella sulle assunzioni del personale e poi già che ci sono ne faccio anche un'altra che mi è sfuggita a me prima di domanda leggendo sempre la legato 3 alla relazione vedo del milione di euro distribuito inutili nel 2013 ecco volevo capire chiaramente lei è l'amministratore quindi è una decisione che spetta viene proposta ma aspetta poi la decisione all'assemblea quindi la domanda diventa più politica la domanda volevo capire il comune di Pordenone come ha utilizzato questo milione di euro preso come ha risposto l'assessore altre richieste di chiarimenti mi ha colpito molto l'intervento che ha fatto l'assessore visto che c'è quella foto dove ci sono tutti gli operatori che sono stati molto loggiati sia dall'amministratore io l'assessore penso che potrebbe istituire un premio di produttività maggiore sia per l'amministratore per questi operatori che effettivamente portano a casa quei risultati perché il merito di questa città è proprio loro dunque mi dica magari se prevedete questa cosa qui perché è quello che riguarda quelle persone là non tanto le parole riguardano un po' è gente di famiglia quella lì che tiene famiglia va bene allora dottor Mariotto se può rispondere a quest'ultima domanda che è quella dell'assunzione anche quella rispetto al discorso delle assunzioni allora noi come società pubblica siamo soggetti alla normativa in merito alle assunzioni quindi di fatto noi tutte le assunzioni che sono state fatte in GEA da quando sono amministratore pubblico sono state fatte tramite avviso pubblico selezione e selezione pubblica quindi anche questo verrà fatto in questi termini le diciamo le posizioni organizzative che avranno bisogno di supportare supportare GEA nei nuovi servizi di fatto le tre persone sono tre persone operative che andranno che andranno a esercitare quelle che sono i compiti attualmente gestiti al comune residuali al verde quindi di fatto saranno operatori quarto terzo quarto livello di contratto federamente quindi comunque saranno operativi per quanto riguarda invece la Tari le persone impegnate dovranno essere senseremente persone dedicate alla sportello quindi al customer service e sono nove e alla fatturazione e alla boletazione delle tariffe di fatto in questo momento le dico siamo ancora nella fase preliminare perché a seguito della delibera di affidamento e dell'approvazione linee guida per la definizione dei contratti poi si dovrà andare nel dettaglio di quelle che sono le diciamo i contenuti del contratto di servizio e ovviamente poi anche una valutazione di quelle che sono le persone che transiteranno dal comune alla società nel senso che comunque come vi dicevo sono parecchio tempo che si discute di questa materia nel frattempo alcune persone del comune che si occupavano di verde per esempio sono andate in pensione altre hanno cambiato mansioni quindi comunque questa cosa qui dovrà essere valutata poi concretamente anche con le risorse umane che saranno messe a disposizione comunque per il momento si sono messi dei numeri quindi delle caselline e delle funzioni e una previsione di costo per quanto riguarda invece l'altra domanda del consigliere De Bortoli dice il contratto nazionale federale ambiente prevede una contrattazione in secondo livello che ha quindi un premio in produttività un premio in produttività che in questo momento vale attorno agli 80.000 euro per i dipendenti di fatto più o meno 80.000 diviso 70 erotti più o meno sono 1.000 euro lordi all'anno di oltre alle 14 mensilità quindi diciamo che da un punto di vista economico il contratto federale ambiente è un buon contratto e comporta anche una produttività quindi un premio in produttività una contrattazione in secondo livello che è obbligatoria per quanto riguarda il premio all'amministratore sta all'assemblea dei soci deciderlo non a me ovviamente come come diceva anche giustamente il consigliere Ribetti anche la discorso degli utili sta nell'assemblea dei soci che è sovrana nel decidere cosa fare degli utili di GEA richiesti e chiarimenti nessun altro bene dichiaro aperta la discussione vi invito a iscrivervi per prendere la parola prego consigliere Ribetti grazie 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 presidente sindaco mi rivolgo a lei prima di tutto perché questa amministrazione è ancora la sua e quindi per me lei è il primo responsabile di questa delibera perché è il primo responsabile perché non mi ha assolutamente convinto soprattutto per quanto riguarda la risposta alla domanda principale sollevata da me dai colleghi e credo io da qualsiasi persona di buonsenso perché è chiaro è chiara a tutti la finalità della sua operazione lei a fronte di un contratto di una concessione chiedo scusa che ancora due anni di vita che abbiamo appena iniziato nel 2016 scade il 31-12 2017 vuole blindare la partecipata in un settore tanto delicato quale è quello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti settore delicato perché sono molteplici le criticità in tutti questi anni abbiamo evidenziato spesso abbiamo visto il costo quanto pesa sul bilancio sul bilancio e soprattutto sulle tasche dei nostri concittadini in questo settore ho evidenziato prima le mie domande e chiarimenti le mie richieste cercando di avere da parte sua un'indicazione qualcosa che potesse convincermi della bontà di questa operazione ho evidenziato la criticità del nostro territorio una provincia che è divisa tra tre operatori una provincia che poi adesso esprime lo stesso soggetto che non è riuscito e non riesce e non riesce a chiamare attorno a un tavolo per discutere tutti questi tre operatori vede le scelte si possono fare per carità sta nella logica delle cose chi amministra fa scelte però a mio modo di vedere le scelte vanno anche fatte in maniera in maniera almeno giustificata io ritengo che questa operazione sia priva assolutamente di qualsiasi giustificazione ho cercato di fare delle domande precise puntuali su questa delibera e soprattutto sui documenti allegati ho richiamato più volte la relazione allegato tre e secondo me c'è un passaggio che ancora non avete spiegato e che dovete spiegare perché lo scrivete voi stessi che è qualcosa che vi viene richiesto dalla norma di legge quando si fa quando si dà un affidamento in house ci sono dei precisi obblighi dei precisi chiarimenti delle spiegazioni che devono essere date io richiamo ancora una volta quanto voi stessi scrivete in questo documento che va data la dimostrazione bisogna dimostrare la sussistenza dei presupposti di convenienza economica rispetto ad altri possibili modelli gestionali rispetto ad altri modelli gestionali significa che non dovete farmi il raffronto tra le altre società che operano ma dovete rapportare le diverse possibilità gestionali poi se volete farmi il raffronto almeno fatemelo comparando dati che comparabili sono non andatemi a comparare mele con pere banane con albicocche ananas e via dicendo perché questo avete fatto questo avete fatto nella vostra relazione ed è questo uno dei motivi che a mio modo di vedere va ad inficiare la buntà di questa delibera i dati che ci avete portato e qua vado anche a richiedere a spiegare meglio quello che avevo chiesto a inizio serata il rinvio della discussione di questa delibera proprio andava in questa direzione visto che tanto sono dei dati che dovrete rendere pubblici a breve è una delibera che a mio modo di vedere poteva essere discussa fra un mese e mezzo non cambiava assolutamente niente con tutti i dati con inizione di causa assessore io dico come la penso lei poi dopo mi dirà mi dirà nelle sue repliche quello che ritiene di replicare perché vede io ho richiesto prima al cortese dottor Mariotto che con cortesia gentilezza disponibilità si è messo a disposizione dico io anche con spirito di servizio perché in effetti è l'amministratore di nostra partecipata mancherebbe altro che non viene qua a spiegarci le cose quindi assessore Conficoni io mi associo ai suoi complimenti perché nessuno non ha mai diciamo nessuno ha mai voluto mettere in dubbio le competenze e le capacità dell'amministratore della partecipata quindi la sua la sua presa di posizione mi ha po' diciamo lasciato un po' sorpreso perché no 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 assessore no 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 assessore nessuno ha mai chiesto di chiudere una società qui tutti tutti hanno chiesto tutti hanno chiesto di essere coerenti con le logiche di non voler blindare di non voler blindare qualcosa per paura del domani l'interesse l'interesse al bene della partecipata che è una partecipata del comune di Pordenone e non dell'amministrazione che regge adesso il comune di Pordenone è un interesse che sta a cuore a voi come starà a cuore la prossima amministrazione quindi io ritengo che potrebbe essere attenzione e potrei fare anche gli scongiuri che stasera lo streaming non funziona quindi non mi vedrebbe nessuno potrebbe essere un'amministrazione potrebbe essere un'amministrazione del vostro stesso colore ma è una scortesia quella che state facendo è una scortesia bella e buona politica prima di tutto prima che essere ripeto non basata su su dati in modo di vedere che ne giustifichino l'urgenza oggi è una scortesia politica perché voi non potete pretendere di blindare di bloccare le mani alla prossima amministrazione su delle scelte che potrebbero essere diverse da quelle che voi fate oggi voi dovete farle nel momento in cui siete chiamati ad agire d'urgenza non ha senso a due anni dalla scadenza della concessione andare a prorogarla potrebbe avere potrebbe avere una logica potrebbe avere una logica a fronte di determinati investimenti ecco perché ho insistito prima sulle domande sulla nuova sede era necessaria proprio adesso io amministratore dottomariotto io capisco non fa una grinza il suo ragionamento lei prima parlando del buon padre di famiglia ha detto quale buon padre di famiglia non lo farebbe e io ho fatto un commento tutti i padri di famiglia con i soldi in tasca farebbero questa operazione ma i soldi in tasca bisogna averli quando quando lei mi va a portare fuori dal servizio che mi costa tanto e mi fa un'operazione adesso di questo tipo guardo lei perché mi ha presentata lei l'operazione lei rappresenta la società chiaramente la scelta è politica è una scelta che le viene imposta vede allora mi pongo la domanda quei soldi in questo momento potrebbero essere utilizzati in maniera migliore lei mi ha fatto prima l'incidenza ci pesano per 25 mila euro su un bilancio di 10 milioni va bene vogliamo sommarlo agli utili che sono stati distribuiti al socio perché il comune è il Pordenone allora si sommano un insieme a mio modo di vedere di criticità e di lacune che fanno capire qual è il vero senso di questa operazione senso che non si ritrova nelle carte che è un'operazione che non ha senso che non è basata su dei dati che dovrebbero averlo e allora io richiamo veramente l'attenzione di tutti i colleghi che andranno a votare questa delibera perché io sicuramente voto a favore questa cosa non la darò richiamo la vostra attenzione perché questa delibera c'è qualcuno che potrebbe anche decidere di farla sottoporre a un vaglio ulteriore per carità l'amministrazione è tranquilla voi siete tranquilli siamo tutti contenti e mi auguro per il bene della società e per il bene della nostra città che voi abbiate ragione ma quando vedo quando vedo che mi vengono mescolati i dati e mi vengono forniti dei raffronti disomogenei tra date che sono disomogenei non posso essere altrettanto tranquillo non posso essere tranquillo assessore quando vedo che mi viene richiesto lo studio e la spiegazione su quello che sarebbe l'impatto di un diverso modello gestionale perché questo viene richiesto e questa spiegazione non la ritrovano le carte non posso essere convinto di questo non posso essere convinto di come viene gestito il verde lo capite le spiegazioni del dottor Mariotto il verde viene gestito in maniera bellissima no per me no perché si segue una tariffa perché non va a gara la tariffa del verde il costo un ulteriore aspetto scusate che ho perso un attimo il filo ce l'avevo qua eccolo qua un ulteriore aspetto riguarda le assunzioni c'è il sindaco letto che c'è un bando di mobilità fatto da lei e mi chiedo era necessario un'altra mossa era necessaria a farla oggi a tre mesi a tre mesi dalla fine del mandato era necessario benissimo e allora io concludo concludo perché non ha tanto senso che continui a rincarare i dati ve li ho dati li abbiamo illustrati in conferenza stampa abbiamo evidenziato quelle che sono le criticità le ritrovate quello che manca non lo ritrovate quindi ritrovate le lacune in questo documento che andrete a votare signori ponete attenzione a quello che fate perché qui c'è di mezzo qualcosa che è di una gravità estrema e concludo ribadendo quello che ho detto prima a due anni della scadenza questo ve l'ho detto andate a rinnovare per 15 anni qualcosa che prima era in essere per 10 quindi non solo andate senza motivo a rinnovare ma ancora di più in assenza di che cosa di una necessità di investimenti perché viene creata viene creata ad arte e andate ad allungare la concessione della serie qua le mani ce le mettiamo noi perché qua dobbiamo gestire la raccolta dei rifiuti a Pordenone per i prossimi 15 anni ecco io non credo che questo sia un bel esempio ripeto un bel esempio non lo state dando prima di tutto perché i dati che dovreste dare non ci sono all'interno di questa delibera quindi io invito i consiglieri di maggioranza a pensarci bene prima di premere il pulsantino verde perché ognuno di voi dovrà fare i conti con la propria coscienza come fate sempre credo ma forse potrebbe fare i conti con qualcun altro grazie grazie consigliere consigliere Dalmas prego ma ci sono buone ragioni per le quali potrei anche starvene zitto sicuramente l'intervento dell'assessore è stato stimolante in come dire in termini di contrapposizione lei ha fatto un intervento inutile perché ci è bastato quello che ci ha detto ma ci sono due cose che contraddistinguono questa serata l'intervento dell'assessore e il pari intervento del collega Ribetti il pari intervento del collega Ribetti che all'evidenza utilizza argomenti di minaccia politica se votate così attenzione perché vi succederà colacchi cosa ci succede non ci succede niente tu lo sai benissimo sei un aboglio avvocato sai benissimo che non possiamo essere perseguiti per le opinioni espresse ai voti dati né tantomeno siamo soggetti al controllo di legittimità preventivo e consultivo della corte di conti sui voti che esprimiamo su una delibera quindi smettiamola di dire cose che non ci stanno che non ci stanno e siccome e siccome l'amico Ribetti deve giustificare una brillante conferenza stampa nella quale è avvenuta pochi giorni fa nella quale con cotanto come dire parter de roi è riuscito a disporre le ragioni che io non ho trovato Francesco devo dirti te lo dico con con sicuramente sicuramente con simpatia e anche con rispetto che voi non avete perché non ci sono ragioni a mio avviso pregnanti per le quali come dire ostative a ciò che sta facendo l'amministrazione con questo il mio sarà un voto di estensione anzi me l'avevo prima non voto ma annuncio già un'estensione su questa delibera benevola perché capisco i tempi nei quali viviamo so benissimo che l'alternativa a tutto ciò è il mercato il mercato che ha delle regole molto più cattive cattive ecco diciamo cattive il libero mercato ha delle regole ben diverse e capisco che bisogna un po' rafforzare il le nostre dotazioni e d'altronde la migliore salvaguardia che può avere chiunque sarà al posto suo Alessandro Ciriani dovesse diventare sindaco sta tranquillo perché comunque il 97% della società il giorno dopo cambia e decide quello che deve fare quindi qual è il problema avete agitato inutalmente il problema si blocca si gestiscono i rifiuti gli amministratori Mariotto starà per 15 anni ma Mariotto poverino mi sembra una brava persona che viene anche da fuori per lui una condanna alternativa alla detenzione stare qui a Pordenone per altri 15 anni gli auguro di fare una carriera in ben altre società in ben altre società non parliamo del personale dei 50 dipendenti che ci sono poi abbiamo scoperto una cosa questa sera che praticamente il carattere aporetico contraddittorio di quello che è stato riferito è che ci sono tre assunzioni quindi il sindaco farebbe tre assunzioni ma povero Cristo se non si candida nemmeno cioè dov'è il voto di scambio fateci vedere un bel voto di scambio almeno parliamo di qualcosa ma neanche di quello tre assunzioni avete detto tre assunzioni ecco questo cioè questo è gli argomenti che avete messo in campo allora il problema è un altro problema che Alessandro Ciriani conosce molto bene perché è stato presidente della provincia seriamente ne ha parlato anche il sindaco quando ha confrontato le esperienze noi abbiamo una regione che dice c'è un ambito regionale unico ancora non ha deciso chi saranno come sarà la gestione quale autorità ci sarà quindi siamo in un'incertezza normativa ma è anche vero che l'unica certezza è il mercato quindi è evidente che i due operatori che stanno in questa provincia dovranno trovare il modo dovranno trovare il modo per mettere insieme le loro forze quindi io non vedo nessuna contraddizione rispetto a quello che si sta facendo oggi con il fatto poi puoi replicare poi dimmi di tutto con il fatto che lì dovremmo arrivare ecco sul verde ma io ho letto la relazione 34 l'articolo 34 e c'è tutta questa disamina sulla ammissibilità della possibilità di utilizzare il verde in quanto servizio strumentale se così fosse avremmo delle difficoltà ad unirlo ad inserirlo tra gli obiettivi strategici che rafforzano questo nuovo piano di Gea e non so cioè va tutto bene cioè il questo ci può stare io ho scoperto anche questa sera che ci sono dei parchi che non sapevo neanche che esistessero a Pordenone prima ne avete citato un parco ma io non so il parco o l'egra non lo so non lo so è suo scusate non sapevo più di stessa ecco allora al di là di tutto il tema il tema il tema è sempre lo stesso a Trieste a Cegas è quotata sì in borsa credo Amga a Udine hanno fatto un'altra scelta che va comunque all'interno di una società quotata in borsa le società emiliane sono quotate in borsa quindi i grandi gestori sostanzialmente sono pochi sono grandi gestori hanno numeri completamente diversi dalla nostra realtà che è Gea che ha 59 dipendenti ha un fatturato di 12 milioni e ha un utile di 500 mila euro è una bella società sana vediamo di aiutarla vediamo di metterla nelle condizioni di affrontare le sfide che ha davanti questo è il ragionamento e non le dietrologie sugli affitti a chi li paghiamo perché il ragionamento che si fa prima Mario Otto è chiarissimo cioè in fin dei conti utilizza gli strumenti che ci sono il denaro oggi è a buon mercato e quindi si può anche con tassi bassi si possono anche realizzare queste cose quindi io invito veramente a quest'aula perché non dovete costringermi a prendere le posizioni loro che non li sopporto cioè voi dovete incominciare a usare argomenti che siano convincenti se no come potrà mai questo centro-destra candidarsi ad essere un'alternativa grazie consigliere consigliere appiccinato prego grazie presidente non so perché Franco parlava a me ma posso anche sposare buona parte del discorso che ha fatto dico di più no no sono contro questo tipo di sono contro questo tipo di matrimoni devo dire devo dire vado punto per punto nel senso che allora parto dicendo che ho fatto distribuire insomma delle foto per quanto riguarda la gestione di semplici cassonetti oggi foto fatte oggi da cittadini che mi hanno mandato lo stato dei cassonetti eccetera a Valenoncello no no non è un emendamento una semplice opera di diffusione di fotografie che mostrano che la gestione dei rifiuti potrebbe essere migliore tutto qua proseguo con proseguo con il punto nella delibera allora ringrazio subito dico una cosa poi la sistemo ma ringrazio il sindaco perché per l'opera di difesa di una proprietà del comune quindi dell'interesse comunale perché prima di tutto GEA è un investimento che ha fatto la collettività che è di nostra proprietà e quindi in un qualche modo in qualsiasi modo venga difesa è sicuramente da lodare perché tutto sommato sono sempre soldi nostri quindi in ogni caso tutte le altre cose devono tenere conto di questa visione principale oggi sappiamo che il mercato sta sicuramente avendo dei riscontri che sono anche talvolta negativi per i cittadini e i territori e quindi fare un'opera che può essere di tutela è sicuramente positiva dal mio punto di vista quindi al di là del fatto che venga fatta in un momento piuttosto che un altro questo non rappresenta un problema dal mio punto di vista nel senso che oggi c'è questa amministrazione questa amministrazione fa quello che ritiene di fare questa amministrazione la prossima amministrazione farà quello che riterrà l'amministrazione prossima di fare anche perché è secondo me democraticamente deleterio ritenere il contrario perché altrimenti nessuna amministrazione prenderebbe nessun tipo di provvedimento mai perché ogni provvedimento va inevitabilmente a toccare il futuro di quelle che sono possibili decisioni di altri quindi questo argomento è assolutamente contrario a quello che è la mia visione anzi dirò di più io sono assolutamente a favore per lo spoil system quindi ognuno prende fa e poi si prende la responsabilità di quello che dice fa e pensa detto questo però non mi piace neanche essere preso un po' per il naso nel senso che i conti che ho visto prima non mi hanno proprio convinto e lo dico al dottor Mariotto nel senso che se io sposto il portafoglio da una parte all'altra delle tasche sono sempre soldi che girano da una parte all'altra non dico che sono diventato più o meno ricco nel senso che se è vero che paghiamo un canone di affitto o una partecipata sono sempre soldi nostri per cui questi vanno inevitabilmente tolti dal calcolo che uno può fare per quanto riguarda il costo di 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 ammortamento o sbaglio quindi quei 100.000 non esistono sono 80 tanti pochi boh probabilmente è un investimento che forse vale la pena comunque fare ma non sono 100 sono 80 quindi eh non mi piace che le cose vengano dette in maniera non del tutto trasparente quindi c'è anche un ragionamento da fare l'investimento che viene fatto non è la fine del mondo ma sono comunque più di 2 milioni di euro da questo punto di vista però si va a vedere un altro interessante punto che è quello di dire sì compriamo una nuova struttura eccetera però quella nuova struttura al di là che rientri nel patrimonio del scusatemi dell'azienda ce l'ho già grazie che rientri nel patrimonio dell'azienda ma poi nel tempo col mercato che c'è oggi avrà la stessa valutazione economica io temo di no per molti motivi che adesso è inutile elencare e spiegare ma difficilmente è vendibile al prezzo con cui è stata acquistata oggi per cui sì forse è un investimento che comunque ripeto vale la pena fare ma non è così bello come ci è stato spiegato perché forse alle volte è anche meglio pagare un cano di affitto poi cambiano le gestioni cambia la normativa l'azienda non è più quella perché ce lo dice l'Europa perché c'è il mostro brutto e cattivo che ce la cambia perché Renzi vuole fare l'eliminazione delle partecipate e i nostri soldi non si sa più bene dove come quando vanno a finire da che parte quindi sì però ripeto può essere un investimento ma dopo domani cade l'azienda non è così chiara il punto perché io sto dicendo ringrazio il sindaco per difendere però non è così trasparente l'operazione come cioè non è più non è così conveniente ecco più che trasparente è conveniente come si vuole far mostrarla forse è conveniente probabilmente sì ma non così tanto per quanto riguarda i profughi con le stazionate io assessore ti chiedo di stendere un velo pietoso perché ti chiederò conto di quanto hanno fatto e sì sì ti chiederò conto perché sono anche io curioso di vedere questo grande investimento che è stato fatto nel dettaglio così ci potrai venire a mostrare la grande utilità delle risorse per quanto riguarda la gestione della questione all'interno delle UTI beh l'ha già detto il sindaco non è stata una gestione così valida nel senso che poteva essere fatta in maniera migliore con parole sue io lo dico con parole mie ma credo che la sostanza sia la stessa detto questo l'ultima cosa che dico è quella del fatto che in un qualche modo 15 anni di di contratto siano assolutamente troppi credo che al di là di tutto già 10 anni siano tanti 15 anni siano assolutamente troppi è vero che si vedono in giro contratti a 30 anni però 15 sono assolutamente troppi grazie grazie consigliere consigliere franchin prego grazie signor presidente no la mia le mie vogliono essere solo due considerazioni piuttosto rapide e non entrerò tanto sul piano finanziario che non è non sarei in grado di gestirlo di capirlo fino in fondo però mi ha molto ho trovato molto esaudiente l'esposizione che ha fatto il dottor Mariotto stasera l'amministrazione per cui mi troverei perfettamente d'accordo la cosa che volevo sottolineare però era questa che nel 2003 se non ricordo male in questa sala consigliare si era deciso che la città doveva investire su acqua e rifiuti il verde è venuto dopo in effetti ma la scelta era stata una scelta di civiltà cioè incredibilmente il raccogliere in un certo modo i rifiuti era un modo per parametrare la nostra città alle città che in qualche modo erano esempio in Europa almeno cioè fondamentalmente le città anglosassoni nel centro Europa in cui la città che si presenta ordinata pulita e organizzata dava un senso di civiltà a chi ci abitava e su questa su questa linea che è nata una operazione in house nel senso che avevamo pensato che la gestione pubblica di questi di questi passaggi fosse la gestione che garantiva il livello non solo di raccolto di rifiuti ma il livello di identità di una comunità sul modo con cui si trattavano i beni in qualche modo pubblici e quindi il passaggio negli anni insomma c'è stato prima Petra Anzio adesso un amministratore ugualmente che ci ha dimostrato stasera la qualità dell'intervento non è dal mio punto di vista tanto valutabile perché abbiamo i conti a posto e perché la città ha fatto i passaggi li ha fatti partendo da una difficoltà iniziale di capire l'importanza di usare di gestire quello che non serviva più i rifiuti di gestire l'acqua bene essenziale fondamentale di gestire il verde altrettanto importante per la salute della città e quindi del cittadino dentro questi tre passaggi noi come lista civica chiaramente ci riconosciamo pienamente perché pensiamo che questo debba essere gestito dal pubblico non tanto dal mercato perché va oltre la dimensione dell'economia cioè va oltre la dimensione di quanto ci guadagno a fare questo è una un percorso di formazione di essere cittadino che necessita che l'intervento cioè il disegno sia gestito dalla municipalità dal pubblico dall'istituzione insomma perché l'istituzione che viene in qualche modo è riusciuta dal cittadino come gestore di questi passaggi per cui proprio per quello che sto cercando di spiegare penso che la nostra posizione rispetto agli anni 10, 15, 20, 30, 5 di consolidamento di questa posizione sia quello che ci trova perfettamente d'accordo devo anche dire che nel corso di questi anni il fatto che il problema fosse i vertici nazionali proprio in queste cose cioè acqua verde e rifiuti ci ha fatto molto orgoglio e quindi in questo modo essere secondo me di centro-sinistra o almeno coincide con questo aspetto secondo me non perché il centro-sinistra non lo riconosca ma perché deve essere sicuramente un patrimonio di uno che si definisce di questa area imprescindibile come penso anche di qualsiasi persona che si dichiari di centro-destra ma l'ambiente l'attenzione per la vivibilità della città deve essere un patrimonio di questa parte politica insomma e quindi il fatto che le strategie nazionali ci venivano messo sempre in alto è stato un motivo di riconoscimento di un percorso la seconda cosa che volevo dire è che noi abbiamo fatto più volte veramente o in più passaggi insomma la visita alle varie serie operative e devo dire che a parte gli odori a parte la difficoltà delle situazioni il vedere lavorare le persone nella catena di come si può chiamare di di selezione giusto dei vari materiali per noi è stato un motivo di grande impressione cioè mi risultava difficile capire come il prodotto che vendiamo era la città pulita ma costringevamo dalle altre persone a vivere in situazioni estremamente difficili no? non so se sia migliorata perché sono 5-6 anni che non vediamo questa cosa ma che questa sera venga fuori da parte di colleghi insomma che non vedo più in aula ma che venga fuori la sottolineatura insomma che l'attenzione cioè il raggiungimento di un obiettivo passa anche attraverso il rispetto di chi ci lavora io lo trovo importante per cui aver messo quelle fotografie è un segno un simbolo ma la sostanza è che di fatto noi riconosciamo ai lavori dignità anche i lavori che in qualche modo sono per certi versi più umili ma sono invece di alta dignità perché hanno fatto di questa comunità hanno dato un alto livello di riconoscimento per cui per quel che mi riguarda ringrazio G.E.A. l'amministrazione per questi 15 anni di lavoro sono senz'altro d'accordo che mantenga la dimensione in house quindi controllo totale del comune e che gli venga assegnato una specie di di riconoscimento e di fiducia insomma un atto fiduciale di 15 anni di rinnovo grazie grazie consigliere consigliere freschi prego grazie grazie presidente parto un po' anch'io dall'ultimo intervento del consigliere del consigliere franchin perché in pratica mano mano che parlava depennavo alcuni appunti che mi ero fatto insomma per cui cercherò anche di essere abbastanza sintetico e breve allora io ringrazio l'amministrazione in particolar modo ringrazio il dottor Mariotto per quello che ci ha presentato questa sera perché mi è parso un piano dettagliato un piano attento un piano di prospettiva e soprattutto su questa parola vorrei soffermarmi un piano di prospettiva e il dottor Mariotto ci ha presentato nelle slide che ha proiettato il piano industriale 2016-2030 ed è partito da alcuni ceni storici io non mi soffermo sui ceni storici e sulle date che sono state messe lì ma sui contenuti ricordando che siamo partiti nel 2001 con una situazione di raccolta dei rifiuti in città che forse qualcuno si ricorda che era costituita da dei cassonetti in vetro resina di color senape dove si buttava dentro tutto e la raccolta dei rifiuti costituiva era costituita da tre passaggi dal cittadino che costruiva il sacchetto con i rifiuti dal camion che passava a raccoglierlo e da un enorme buco in cui si buttava tutto in maniera indifferenziata che era la discarica di Valle Noncello questa era la storia del 2001 poi si è andato ed era Amiu si chiamava Amiu in quella circostanza poi si è arrivati nel 2003 alla Gea Spa ed è iniziato tutto un percorso di ragionamento su quella che doveva essere e che ricordava prima il consigliere Franchin doveva essere una città che in qualche modo rispettava l'ambiente si accorgeva che attraverso l'ambiente passava un po' la qualità della vita di una comunità e si è arrivati alla differenziazione iniziando in via sperimentale con il quartiere di Villanova la raccolta dell'umido ed è stato un cambio epocale che forse ormai ci siamo dimenticati ma che andrebbe il caso di rispolverare insomma perché quelli sono stati dei passaggi che hanno cambiato il modo di pensare il modo di approcciarsi il modo di vedere la città e siamo arrivati da un 100% di indifferenziato ad un 20% assessore di indifferenziato cioè abbiamo sfioriamo l'80% di raccolta differenziata e un 20% mi pare forse sarà anche un po' diverso la percentuale però siamo siamo lì allora quando questa sera io mi sento fare presentare un piano che prevede 15 anni di prospettiva che prevede un cambio sostanziale di una società che vuole rafforzarsi ed essere paritetica con altre nel mercato mi pare che non devo soffermarmi sul fatto dei due anni della scadenza della convenzione ma devo cogliere il momento che sto vivendo e dire apro una prospettiva che è una prospettiva che mi permette di essere competitivo di rafforzare l'azienda perché è inutile che noi questa sera diciamo quei lavoratori che vediamo su quelle foto vanno valorizzati per quello che stanno facendo per quello che stanno dando eccetera io sono pienamente d'accordo su quello ma se non rafforziamo l'azienda non rafforziamo i lavoratori non rafforziamo le loro posizioni le mettiamo in difficoltà se non creiamo un futuro e il futuro passa attraverso determinate scelte e quel piano finanziario che è stato presentato presenta delle scelte ben precise ci mette in evidenza delle scelte ben precise è chiaro che a questo devono seguire tutta una serie di considerazioni anche di tipo politico perché nel momento in cui parliamo di una gestione provinciale dei rifiuti nel momento in cui parliamo che ci sono altre aziende nel territorio è chiaro che dobbiamo mettere in atto in moto i meccanismi della politica perché vorrei ricordare a questo consiglio che sono stati messi in atto più tentativi per arrivare ad un operatore unico provinciale ancora dieci anni fa lo stesso giorno lo stesso pomeriggio su due tavoli diversi si dovevano riunire due consigli di amministrazione per decidere un passaggio di di parallelo lavoro e di prospettiva un consiglio si è riunito l'altro non si è riunito per cui i passaggi i passaggi sono tanti sono molteplici e il fatto di creare e di mettere in piedi una società che abbia i meccanismi i numeri le forze paritetiche per poter essere messa sullo stesso piano con altri operatori nell'ambito del territorio è uno strumento che diventa fondamentale per cui io penso che quello che ci è stato presentato questa sera sia uno strumento importante siano delle indicazioni importanti sulle quali si è lavorato sulle quali si è convenuto e che debbono trovare il terreno e l'humus su cui poter poter camminare in modo tale che questa sfida che sarà una sfida costante e l'ambito nel quale stiamo parlando che l'ambito dei rifiuti e l'ambito del verde ma soprattutto quello dei rifiuti è un ambito in continua e dinamica in dinamico cammino che va seguito con attenzione e di fatti anche i passaggi ai quali faceva riferimento il dottor Mariotto riguardo alla forza e alla importanza che hanno le risorse umane e faceva riferimento anche all'ingegnere ambientale se non ricordo male se non ho capito male e per essere pronti a queste sfide per essere pronti in un settore che è estremamente delicato il fatto di razionalizzare l'azienda penso sia uno dei passaggi fondamentali perché veniva ricordato anche da esponenti della minoranza che rafforzare le nuove dotazioni per metterle in condizione di affrontare le nuove sfide è chiaro è un percorso logico è un percorso a cui dobbiamo arrivare la gestione del verde in maniera razionalizzata in modo tale che non ci siano due settori che occupano e che lavorano sullo stesso fronte ma siano invece uniti e siano invece in qualche modo coordinati diventa anche questo un'economia di scala ecco io non voglio aggiungere altri passaggi penso che questa società in questi anni abbia lavorato e lavorato bene sia sempre stata una società in crescita i numeri lo dimostrano il personale è stato bello e positivo che sia stato presentato questa sera a questa assemblea penso che in questi anni abbia dato il massimo di quello che poteva dare e gli va riconosciuto questo merito e penso che questa società abbia tutti i numeri tutte le qualità per poter dare in futuro sempre più dei risultati positivi innovativi rispetto ai tempi che lo richiedono chiaramente è un percorso che non sarà semplice è un percorso che richiederà degli sforzi ma è un percorso che ci vede convintamente sostenitori di quanto questa sera è stato presentato grazie grazie consigliere consigliere Manzon prego presidente grazie colleghi io mi metto sulla traccia degli ultimi interventi anticipo naturalmente l'appoggio del partito democratico a questa delibera però cerco di tracciare una sorta di complemento ai ragionamenti che sono stati fatti fino adesso perché a me sembra di cogliere ecco in questa volontà di proiettare in avanti l'operatività di Gea l'attenzione sia per la città dopo lo spiegherò ma anche per quelle che possono essere le future evoluzioni ecco non è per chi sta da tanti anni su questi banchi il tentativo ripetuto di sintetizzare un intervento ecco una politica sui rifiuti per tutta la provincia è sempre stato un desiderio vivo ecco una volontà sempre dichiarata ma mai realizzata fino in fondo ecco mi pare che ci troviamo da un punto di vista temporale in una zona di transizione perché aspettando poi quelle che sono le evoluzioni a normativa regionale si resta in attesa di una sorta di progetto quadro all'interno del quale poi ragionare in termini di assemblamento poi di tutte le agenzie che si occupano di rifiuti a livello provinciale prima poi anche a livello regionale questo è lo spirito poi della volontà regionale allora Gea si è sempre mossa cercando e questo secondo me è il suo pregio anche nello stesso tempo il suo difetto si è sempre mossa cercando di adattarsi alla realtà della città e quindi ha sempre cercato di cogliere puntualmente quelli che sono i bisogni poi dello smaltimento dei rifiuti in città questo è stato il suo pregio perché è ben riuscito ad adattarsi ai bisogni della città è stato il suo difetto perché tutti abbiamo temuto sempre e continuiamo a temere il fatto che possa essere falocitato da qualcun altro e quindi che poi i cittadini della città si trovino a subire forme di trattamento economico non adeguate per i loro bisogni quindi il timore c'è noi speriamo poi che con lo sviluppo di questa normativa regionale si rientri a me non dispiace ricordare anche il fatto che il legame che tiene unito e che viene previsto poi anche nelle linee di sviluppo di GEA il legame che tiene unito GEA alla nostra amministrazione comunale è fortemente rinforzato dal fatto che sempre l'amministrazione comunale ha considerato importante intervenire anche sui livelli bassi di età nella nostra città cioè si è sempre occupata di fare educazione allo smaltimento dei rifiuti educazione all'attenzione per il verde educazione per l'ambiente che la circonda quindi il connubio il vivere insieme di GEA e dell'amministrazione comunale ha portato secondo me a un rinforzo di quello che è un programma di differenziata è sempre stata un'attenzione particolare quella che abbiamo dedicato non possiamo dimenticare che non è solo la scelta operativa quella che rende matura una città da questo punto di vista ma è anche l'accompagnamento grazie a dei progetti che ci girano intorno e quindi quelli che si rivolgono alle scuole principalmente ma anche a tutti i cittadini questa sorta di sinergia che si crea tra un'agenzia che si occupa di smaltimento e dall'altra parte un'amministrazione comunale interessata a far maturare la città io penso sia una delle ricchezze di questa città e che vada in ogni caso mantenuta tenuta in avanti chiudo dicendo che in ogni caso nonostante si trovi in un periodo di transizione sia importante guardare in avanti e progettare per i prossimi 15 anni in ogni caso si tratta di progetti che hanno un loro spessore hanno un loro adattamento alla città che possono essere eventualmente se un'altra amministrazione decide che ci possono essere delle correzioni possono essere fatti però noi in ogni caso dobbiamo guardare in avanti per questo ecco ringraziamo l'amministrazione e il dottor Mariotto ecco che ci hanno pensato e ci hanno proposto con una particolare cura quello che è un progetto di un'azienda importante per la città ripeto il partito democratico voterà naturalmente a favore della delibera grazie grazie consigliere consigliere De Bortoli prego sì a dire la verità come avete visto dal collega Dalmas si pensava di un atteggiamento diverso su questa delibera ma dopo l'affermazione del collega Franchini che afferma in quest'aula che ciò che tratta la GEA è una questione di a sinistra e non di destra io non so io capisco così io sono andato a Pordenone nel 70 c'era un pentaparito che governava la città ma non mi apparsa che Pordenone sia stata mai una città sporca perché i cittadini di Pordenone sono sempre responsabili e anche quando non c'erano queste tecniche di oggi la propria città la tenivano pulita c'erano le discariche quella volta Rossetto è ben ricorda si parlava anche di un inceneritore a Valle Noncello c'è l'attenzione sulla sulla città sulla raccolta differenziata oppure la raccolta dei rifiuti soliti urbani è sempre stata molto l'attenzione sia delle amministrazioni passate e sia dei cittadini dunque non mi pare che adesso io apprezzo l'opera che fa questa questa città che abbiamo in esame questa sera capiamo che formata da persone motivate e professionalmente preparate fanno il loro dovere sono state costituite per questo lo fanno bene abbiamo un assessore che è sensibile che va in giro per l'Italia a raccogliere premi però io non posso dire che questo che va bene è di sinistra e magari la qualità dell'area di Pordenone che fa schifo e diciamocelo pure fa schifo e se volete vediamo quando li porto io perché l'assessore alla viabilità qui ha fatto rilevi in tante strade di Pordenone ma non ha mai poi dato risultati per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico Pordenone veramente a questi livelli e sappiamo quanto dannoso è per la nostra cittadinanza e per il rumore uguale anche perché la città è attanagliata da un traffico della Viale Venezia che va da Ronche di Fontana Fredda al Ponte di Meduna un problema irrisolvibile file di macchine in precise orari di lavoro anche l'entrata dove inquinano l'aria non c'è da fare perché stanno ferme ed inquinano l'aria io spero che questa soluzione visto che prenderà non oso pensare quante volte avete pulito le caditoie pubbliche di questa città oppure avete fatto un buon lavoro sulla famosa infestazione delle zanzare adesso abbiamo un problema questi giorni vi misureremo tra un po' perché sappiamo che questi giorni è venuto fuori un problema grosso per quanto riguarda la misura di una malattia particolare soprattutto per quanto riguarda i peti voglio vedere la programmazione di questo comune non come quella fatta lo scorso anno che non è servita niente effettivamente come sarà anche su questo allora io non voglio classificare che ciò che va bene sia di sinistra e ciò che va male magari non è di sinistra non voglio dire altro non è così questa città a mio avviso invece ha una grande risorsa che oltre a aver trovato una società che si applica in questo modo professionalmente preparata ecco un assessore molto sensibile a questo perché tutto si può dire l'assessore Conficoni ma non che non abbia sensibilità su questa particolare materia cittadina però dunque aspetta che ho finito ho parlato troppo bene di te in questo momento no quello che dobbiamo però rilevare ecco che tutto ciò che questa società ha messo in atto anche sulla comunicazione ha trovato dei cittadini di Pordenone sensibili e responsabili perché senza di loro noi non raggiungeremo questi livelli seppur con le multe e quant'altro basta vedere che poi su altri stati che mettiamo multe non otteniamo il risultato perché Pordenone è sempre data così Pordenone ha sempre cercato di essere orgogliosa a dimostrarsi al circondario ma anche a quelli che venivano da fuori da fuori di questo contesto che siamo una città fino all'altro ieri anche benestante perché Pordenone dava lavoro e richiamava cittadini che venissero qua a produrre a installarsi a stabilizzarsi oggi questo un po' meno però il fatto anche che Pordenone non ha mai avuto una grande vocazione per la prostituzione abbiamo visto città intere la prostituzione abbiamo visto città intere via intere basta andare verso il Trevigiano eccetera che sono che hanno anche questo fenomeno Pordenone praticamente proprio perché i cittadini contribuivano cioè partecipano alla gestione della propria città dunque diciamo che io sono convinto che questo staff della GEA poteva fare anche una programmazione meno lunga di 15 anni perché io ho una prepensità nel senso che qui ho sentito l'unificazione delle case di riposo che abbiamo fatto come comune una programmazione di 10 anni per ammortizzare dei costi di 100.000 all'anno per poter sofferire adesso entriamo una programmazione di 15 anni perché una programmazione di un piano finanziario come quello che è stato presentato in attuazione è chiaro che più a lungo il periodo e più ti è facile farlo perché se lo comprimi evidentemente ecco io però devo dire anche le cose che le tariffe non sono proprio come si dice concorrenziali nel senso che l'acqua costa un po' troppo in questo comune l'acqua è un bene essenziale alcune volte abbiamo delle tarifazioni che sono triplicate rispetto alla depurazione che al consumo basta vedere una bolletta su 28 euro di acqua paghiamo 36 di depurazione e tutto il resto che poi c'è arriviamo a 104 trimestrali 108 110 euro trimestrali mi pare sì che paghiamo bene questa salubrità che abbiamo questa nostra cultura anche sull'acqua io penso che si dovrebbero trovare anche dei meccanismi di premiare di più il cittadino che rispetta effettivamente questo tipo di messaggio che questa città dà abbiamo visto ad esempio paesi scandinavi che quando uno smaltisce differenziato ritira un ticket quando lui smaltisce e il ticket gli serve per pagare meno tasse al comune cioè io l'ho visto in Finlandia in Svezia succede così se uno inserisce le bottiglie di vetro o di plastica alla fine ritira un ticket e poi va al comune e lo scala sulle tasse che deve pagare il comunale potrebbe essere un incentivo per premiare coloro che sono più attenti o che fanno e alcuni posti è nata una nuova professione c'è la gente che raccoglieva proprio tutto ciò che troviamo si trova in giro per recuperarla a me è rimasto un po' particolarmente lo dico abbiamo un paio di minuti sulla potatura degli alberi della ferrovia non so se l'avete mai vista io non so come è stata fatta non ho fatto un'interrogazione su quella cosa lì perché ho visto tagliati gli alberi in modo irregolare secondo il mio avviso e fino all'altro giorno si vedevano bottiglie di plastica scatto di tonno perché probabilmente chi operava o chi dopo andava a raccogliere la legna bastava vedere e sono rimaste là si possono andare a raccogliere lì nella scarpata della ferrovia questi prodotti e io li ho visti e come ho visto i tombini quelli che per la raccolta dell'acqua piovana che corre dietro lì sono tutti quanti pieni dunque se domani viene una come potrebbe e aspettiamo che avvenga un po' di pioggia anche abbastanza consistente io penso che se non date avremo dei problemi per il drenaggio dell'acqua ecco questa è una raccomandazione che facciamo che abbiamo fatto anche in temi passati dalle situazioni che abbiamo riscontrato di fronte alla fiera nella zona Madonna della Grazia ma se ne potrebbero dire altri io voglio concludere che proprio per questo periodo così lungo nonostante ciò che ha detto il collega Dalmas che dà una considerazione matematica oppure economica il fatto di essere su 15 anni lunghi anche perché poi la nostra società potrebbe essere modificata da chi verrà anche dopo su questo rimaniamo perplessi sull'anticipazione di due anni anche se capiamo non pensiamo che con questo non risceviamo il problema territoriale che rimane un'azienda solo gestirci e questo è lo scopo che diceva anche un altro collega prima non riusciamo ancora a scardinare questa presenza sul territorio di più società che gestiscono la stessa cosa e dunque non è molto così ottima io poi ho un'altra perplessità abbiamo questo fenomeno che questo sì di centro-sinistra le UTI che hanno praticamente come adesso noi invece di fare sì invece di fare concentrazione e gestione e spendere noi invece disgreghiamo così aumentano le spese io sono convinto che aumentano le spese perché e dopo di che aumenterà anche la pratica perché io non so se questa società qui visto come sono strutturate le UTI che anche i bilanci comunali saranno bagliati dal gruppo delle UTI che si chiamerà del noncello la nostra con la participazione dei comuni con voto uno a uno perché dopo vedremo su questa è un po' abbastanza complicata non la sentiamo ancora perché non è partita e tutti quanti aspichiamo che non parta io sono convinto che anche la sinistra in questo momento aspia che non parta non partino le 18 UTI del prima di San Giulio perché sento anche i vostri rappresentanti nell'UPI lei sa il presidente di Gorizia che non è sicuramente il centro-destra e anche qualche di un altro che dice è meglio che non parto non possono partire non funzionano ecco io vorrei vedere poi queste cose come potranno essere applicate se non ci troviamo magari che il comune che fa parte dell'UTI del noncello magari vota per avvalersi di una società di raccolta e di stesso prodotto magari una società diversa o privata perché possono succedere queste cose qua ecco allora io pensavo che una volta costituiti le UTI queste cose si potevano fare meglio e raggiungere gli obiettivi più consolidati invece qua viaggiamo su un piano insomma un po' particolare proprio per questo per la fiducia che diamo nel gruppo dirigente di questa società GEA e nello staff che abbiamo visto prima di persone come è stato esplicitato dall'amministratore della società molto motivata e quant'altro per quanto riguarda il nostro gruppo diamo voto di astensione nella prospettiva futura di magari vedere ancora le cose dopo che sono partite questi fenomeni articolati si potrà essere applicazione piena per ottenere tutti i comuni nella stessa partecipazione per la GEA grazie consigliere De Bottoli nessun altro iscritto dichiaro chiuso il primo intervento passiamo al secondo intervento nessuno iscritto dichiaro chiuso il secondo intervento passiamo chiedo all'amministrazione se volete replicare prego prego vorrei solo dire che un commento personale se mi è concesso questa è la seconda volta che vengo in consiglio comunale la prima volta sono venuto a parlare di Taves questa volta si va a parlare di un'azienda che è del comune io sono stato molto contento della discussione ringrazio tutti i consiglieri perché ritengo che discussioni come queste su future aziende che è un patrimonio della città e su che strada voglio intraprendere sia qualcosa che vada fatta anche più spesso che una volta ogni tre anni e quindi veramente vi ringrazio sia per gli apprezzamenti che per le critiche che comunque aiutano a crescere grazie grazie dottore bene passiamo alla dichiarazione di voto consiglio appiccinato prego grazie presidente allora ribadisco due punti per arrivare alla conclusione io insomma come un'azienda partecipata eccetera che è patrimonio della città alla fine mi aspetto sempre perché comunque ci sia la possibilità di fare il meglio possibile per la cittadinanza e quindi che anche i cittadini beneficino poi alla fine di tariffe assolutamente non dico fuori mercato ma comunque entra un certo tipo di agevolazione insomma perché alla fine Gira di Gira non è un'azienda privata e quindi viene a mancare uno di quelli che è il fine ultimo che è il ricavo fine a se stesso quindi in un certo senso credo che sia un'azienda da tutelare quella che è una partecipata scopriamo però anche che nei rifiuti invece i costi di scala aumentano con l'aumentare della popolazione cosa che dal mio punto di vista non è per niente nuova sono anni che lo dico che praticamente in tutti i settori è così e che quindi è un ulteriore spunto per far riflettere qualcuno che ancora pensa che la città dei centomila possa essere qualcosa di utile alla cittadinanza e tutti i dati dicono il contrario quindi colgo questo dato ulteriore per far riflettere qualcuno che magari non ha ancora fatto i conti con la realtà ma le belle idee rimangono rimane lì è una bella idea però la realtà dice altro poi è chiaro che ringrazio comunque i dipendenti della GEA che sono tanti sono sicuramente da tutelare ma un ultimo punto lo faccio il consigliere Franchin che si è quasi un po' arrogato di definire l'ambiente qualcosa di centro-sinistra sinistra pseudo-tale o cosa ricordo che i più grandi deforestatori distruttori di foreste di pluviale o meno l'amazzonia eccetera sono tutti di sinistra e credo che una cosa del genere non sia assolutamente appannaggio della sinistra ma anzi grazie grazie consigliere consigliere Palmisano volevo solo dire che il nostro voto di vivo Pordenone è favorevole però volevo accogliere l'occasione di unirmi agli altri colleghi consiglieri che hanno elogiato questa società questa società sana è un patrimonio per la città io volevo solo fare una riflessione qualcuno di voi anzi tutti passiamo per le strade vediamo a volte degli operai inginocchiati nelle aiuole nelle rotonde che sono lì a preparare diciamo ad addobbare diciamo queste aiuole che poi ci fanno onore diciamo a tutti noi infatti io più volte ho notato che gente diciamo ammira queste diciamo queste aiuole fiorite e questo è grazie sia diciamo alla società ma anche a quegli operai che sono lì a lavorare diciamo per noi che alle volte ci infastidiamo anche perché magari mettono il segnale per il lavoro in corso e noi con le macchine diciamo siamo infastiditi io invece spesso giro in bicicletta e ho la possibilità proprio di osservare queste persone per cui io oltre a ringraziare diciamo l'amministrazione la società e l'amministratore Mariotto che questa sera ci ha illustrato molto bene diciamo questa società ringrazio in modo particolare proprio queste persone che vediamo lavorare per noi che ci offrono questa bella immagine della città che ci fa onore grazie grazie consigliere consigliere Zanotte prego signor sindaco signor chi siamo allora nella mia esperienza professionale un giorno ebbe in modo di trovare di incontrare un imprenditore che in un momento di crisi aziendale ad impianti fermi mi chiedeva dei consigli su come investire sulla sua azienda su come mettere a posto macchinare ed impianti ovviamente io lo guardai dicendo adesso me lo chiedi sì perché quando riparto devo essere pronto è buona amministrazione è buona amministrazione è un'azione di buona amministrazione che un'amministrazione pubblica costruisca una società la metta in mani esperte e competenti gli dia una mission che è la raccolta differenziata questa mission si è esplicata a Pordenone rispetto al resto d'Italia ad altissimi livelli non ci sono comuni città metropolitane o centri urbane di questa dimensione che differenziano come noi chiaro quindi è un'azione di buona amministrazione investire preparare rafforzare in maniera tale che questa società si prepari alle sfide future noi abbiamo una possibilità importante ricordiamoci che il riferimento utile è ad abitanti non è a territorio questi sono i servizi che sono ad abitanti seconda questione la capacità di differenziale quindi quel pezzo del ciclo dei rifiuti noi siamo in grado saremo in grado sicuramente di gestirla quindi ringraziamo sicuramente chi amministra questa società ringraziamo i cittadini che partecipano che hanno partecipato che continuano a partecipare in quattro anni noi siamo arrivati al 70% del differenziato ok 83 no quella volta quella volta 70% tutto quello che succederà nei prossimi mesi nei prossimi anni vedranno questa società che parteciperà in un certo modo e con probabilmente con profitto alle sfide che ci attenderanno grazie grazie consigliere consigliere ribetti prego grazie grazie presidente prego innanzitutto mi ero dimenticato prima di ringraziare il dottor mariotto per una risposta che ha avuto il coraggio di darmi a differenza di quello che fece l'assessore in una mia apposita interrogazione quella relativa al napo alla chiusura del napo perché il dottor mariotto ha detto noi sanzioni così non emetteremo lei assessore quello non lo disse quando io gli dissi a mia specifica domanda ma lei me lo può garantire che non verranno date sanzioni ai nostri concittadini rispose io non posso garantire niente a nessuno ecco invece è una cosa importante soprattutto se facciamo degli investimenti perché succede succede a me personalmente in certe zone della città magari più frequentate da gente con poca sensibilità può capitare chiuso questo inciso io dico che il voto del mio gruppo stasera presentato da me sarà un voto contrario sarà un voto contrario per tutto quello che è esposto ma non per quanto per una sfiducia nei confronti della società della partecipata ma perché proprio ritengo che questa delibera così come viene posta non possa essere votata non è una questione né di minaccia quello che ha detto il consigliere Dalmas il tono tra lo scherzoso e il burlesco né una questione di non essere pronti caro collega Zanuto che mi hai preceduto non è che noi non vogliamo che la società sia pronta assolutamente il mercato il mercato è lì il mercato è pronto noi riteniamo che certe scelte non debbano essere precipitate in questo momento nulla nulla ci spinge a rinnovare adesso una concessione per un periodo addirittura più lungo una concessione ancora a scadere questo mi vuole vedere è un atto di forza è un atto che non è giustificato da nulla non è giustificato tanto meno dai numeri che sono presenti in quella relazione quindi per come lo vede il mio gruppo ci siamo confrontati con il collega Loperfito noi il nostro sarà un voto contrario motivato come da tutto l'intervento grazie grazie consigliere Betti bene nessun altro iscritto dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto e comunico di dare avvio alle procedure di votazione pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 45 del 2015 riconfigurazione della società GEA gestioni ecologiche e ambientali SPA quale gestore globale dei servizi ambientali attraverso il loro riassetto e razionalizzazione del modello gestionale dei servizi e loro qualificazione come servizi pubblici locali di rilevanza economica così delibera così come emendata dalla amministrazione l'emendamento è stato distribuito bene dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto l'esito a votazione è la seguente presenti 29 votanti 29 maggioranza 15 favorevoli 24 contrari 1 astenuti 4 la deliberazione è stata approvata pongo ora i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto l'esito a votazione è la seguente presenti 29 votanti 29 maggioranza 21 favorevoli 25 contrari 1 astenuti 3 la deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile scusate signori il sindaco vuole dire qualcosa in chiusura prego signor sindaco volevo anch'io mi permettete di fare un ringraziamento a Luca mariotto e alle persone che hanno lavorato perché questo è stato un lavoro di circa un anno e mezzo di studio non banale quindi il segretario Fabiola Botteri perché all'interno anche del comune voi dovreste capire che cose di questo tipo non nascono per caso e quindi tutte le persone che sono state coinvolte mi sento personalmente di ringraziarli per la passione che hanno dimostrato e ha ragione ha ragione consigliere De Portoli ai cittadini di Pordenone perché questi risultati non avremmo mai ottenuti se la sensibilità della nostra città non fosse quella di oggi grazie grazie signor sindaco dichiaro chiusi i lavori del consiglio il consiglio verrà riconvocato a domicilio grazie e buonanotte a tutti grazie